In collaborazione con Autonoleggio Alidama Qualità e assistenza nell'autonoleggio I Due Re Ristorante e pizzeria Lungomare Piermanni Civitanova Marche Un po' di mercato è preso Giuliano Grinelli Proprio sullo film Della calcia mercato firmato Piennale Un po' di mercato Buonasera a tutti Il diciannovesimo appuntamento stagionale Con la nostra trasmissione Come sempre in diretta Diciamo subito che il calcio Prova a ritrovare Una sua certa normalità Delle gare in programma oggi Almeno nei tre campionati Che seguiamo maggiormente Ci sono stati soltanto due rinvi Visti i tempi Questo è sicuramente un buon risultato Andando sui campi Da registrare il blitz Della Vispesaro Che inguaglia La pistoiese di Alessandrini Con una rete tra l'altro Dell'ex Nicolo Gucci Che Marco Alessandrini Conosce molto molto bene Allunga la sua striscia positiva L'Ancona Matelica Che trova comunque Un buon punto a Luca Mentre nulla di fatto E reti inviolate Alle recchioni Trafermana e Carrarese In Serie D Finisce 0-0 Il derby molto atteso Di Tolentino Con la Recanatese Costretta però A giocare quasi un tempo In inferiorità numerica Stesso risultato Per l'inseguitrice Tra Stevere a San Benedetto Successo pesante Niente affatto scontato Del Monte Giorgio 2-0 Sul fanalino Di coda Alto Casertano Mentre per il resto Tutti i pareggi Per le nostre Tra cui quelli In trasferta Del Fano E del Porto d'Ascoli Sui campi Di Vastese E Matese E dopo un'autentica Maratona Il Fossombrone Si è giudicata La Coppa Italia Di eccellenza Per il Comitato Regionale Marche Grazie ai calci Di rigore Sul Porto d'Ascoli Nei recuperi Invece Di questo torneo Successi esterni Per Fabriano Cerrete Ed Urbino Rispettivamente Sui campi Di Montefano E Val di Chienti Ponte Questo in estrema sintesi Quello che è successo In questa domenica calcistica Un caro saluto Alla nostra Sara Per presentare I nostri ospiti Buonasera a tutti Di questo e di tanto altro Parleremo con gli ospiti Di questa sera Che sono Alessandro Cosso Direttore sportivo E per il momento Leonardo Santoro Centrocampista Del Monte Giorgio Ben trovati Buonasera Poi come al solito Aspettiamo i vostri messaggi Come sempre Al numero 327 9573655 Ma comunque Lo troverete sempre In sovrimpressione Quindi Vogliamo un po' Sapere i vostri commenti Della giornata Che è appena andata In archivio Assolutamente Poi anche noi Faremo avvicendamenti E sostituzioni All'interno Del nostro studio E allora Partiamo con Leonardo Santoro Soprattutto per Questo successo Che io ho detto Pesante E non scontato No? Davvero Affrontavate il fanalino Di coda Sembrava tutto facile Una squadra Che aveva conquistato Soltanto due punti Uno dei quali Con voi E proprio per questo Ci siete andati Subito decisi Sì esatto Quando giochi queste partite C'è sempre Il pericolo Dietro l'angolo Quindi l'abbiamo preparata Bene in settimana Sapevamo che comunque Era una partita Impegnativa E sappiamo anche Che poteva essere Sbloccato in una pallone Inattiva E quello che è successo È stata una partita Molto intensa Dal punto di vista Fisico Però sappiamo anche Che loro alla lunga Verso 65esimo 70esimo Comunque Iniziavano a calare E noi siamo stati bravi A sfruttare Le ripartenze E poi chiedere la partita Con il 2 a 0 Senti Renato Tra l'altro Finalmente continuità Perché quello che vi è mancato Poi ne parleremo In tutto il giorno di andata Finalmente due successi consecutivi Sì sì Diciamo che Il nostro giorno di andata È stato molto Altalenante Quindi adesso cerchiamo Di dare continuità Ai nostri risultati Per toglierci Da quella posizione scomoda Perché comunque ancora Non siamo tranquilli E cerchiamo di toglierci Il prima possibile Diciamo che la tranquillità È ancora molto lontana E quindi va conquistata Domenica dopo domenica Allora Alessandro Facciamo anzitutto Un bilancio con te subito Di quanto è successo In sede di mercato Proprio un commento generale Diciamo che di colpi Sensazionali Non ci sono stati Ci riferiamo alla Serie C Mentre moltissimi Sono stati gli scambi Così almeno le squadre Hanno un po' Cercato di colmare Le loro lacune Segno dei tempi Di disponibilità economiche Che sono un po' Quelle che sono Assolutamente Anzi Secondo me Per il momento Che stiamo vivendo C'è stato anche Tanto movimento Per quanto riguarda Quelle nostre Di società Quelle marchigiane Secondo me Hanno fatto I movimenti Giusti E con le pedine Che loro dovevano Integrare Oppure hanno lasciato Andar via Qualche giocatore Che aveva giocato Di meno E quindi Hanno cercato Di dare più spazio Ad altri Che avevano in casa Probabilmente Pensando anche Ai giocatori Ai giocatori Magari più giovani All'interno Delle rose Anche perché Stiamo parlando Tranne la Fermana Che è ancora In lotta Per venire fuori Da una posizione Particolare Le altre Comunque sia Stanno facendo Dei campionati Abbastanza tranquilli Per il momento Insomma L'Ancona Vediamo Dove sta La Vispesa Comunque sia Al di là Della vittoria Di oggi C'è una squadra Che non credo Che abbia problemi Per potersi Per poter Forse Anche rientrare Nelle posizioni Dei playoff Magari al Photo finish La Fermana Naturalmente Ha avuto Una partenza Particolare Per cui Naturalmente Piano piano Io sono convinto L'ho detto Tanto tempo fa E lo ripeto Oggi Che verranno fuori Sicuramente Oggi aveva una partita Difficile Ho visto degli spezzoni E in qualche momento Anche sofferto Però tanto in questo Campionato È così Senti Nel dettaglio Diciamo che L'Ancona Materica Sta cercando Di trattenere I suoi pezzi Pregianti Che sono Fagioli E Iannoni Diciamo che Probabilmente Micciola E Canile Cederanno Solo di fronte In extremis Ad offerte Irrinunciabili Anche se L'ipotesi Al momento Più A mio avviso Probabile Che comunque Restino Almeno Sino al termine Della stagione Sì Sono convinto Perché davanti a una piazza Come quella di Ancona Sicuramente Se ne guarderanno bene Di smantellare In questo momento Un giocatolo Che va Quasi Alla perfezione Però Io devo dire Per il mio pensiero O L'operazione La fai a fine anno O se no Non sono Non vedo Di buon occhio L'operazione Fatta adesso L'accessione Di un giocatore Fatta adesso E tenerlo Per poi Darlo A fine giugno Io Lo tratterei Direttamente A fine giugno Insomma Ecco Ma non per la serietà Del giocatore O che che sia Però È sempre Una situazione Particolare Senti La vispesero Facendo sempre Questa panoramica Di mercato Ha ceduto Giraudo Che era difficile Comunque trattenere Quindi era abbastanza Prevedibile Ha preso Tra gli altri Un difensore esperto Come Ferrini Un centrocampista Direi affidabile Come a quadro Che dalle nostre parti Conosciamo bene Cristian Silenzi Figlio di Andrea Noi ce lo ricordiamo bene Insomma Ex Bomber Di Reggiana Torino e Napoli Diciamo che è una squadra Che sembra un po' più Equilibrata D'altronde Quello che deve fare la vista È cercare Se è possibile Di evitare un po' Gli alti e bassi Che ha avuto Quello che ti stavo dicendo Ha fatto delle operazioni mirate Diciamo che il girone D'andata È servito Proprio per Poi Alla vispesa Ancora di più Perché la vispesa Non ci dobbiamo dimenticare Che ha stravolto Una squadra Per cui è partita Sta facendo un campionato Importante E adesso A gennaio Ha sistemato Magari I tre reparti Che secondo loro Avevano bisogno Di avere più stabilità E infatti Proprio per questo motivo Al di là Della vittoria Di oggi Però per questo motivo Dico che La vispesa Potrà essere lì E fare un campionato Che magari La porta A fare qualche piccolo sogno Senti Nessuno stravolgimento Alla fermana Perché L'ossatura Resta quella È basata su Ginestra Sugli Scrosta Su Urbinati Su Blondet Su Cognigni Su Frediani Forse a metà campo Si poteva cercare Di fare qualcosa di più Sì Però io sono convinto E l'ho detto L'altra volta Che Con il lavoro Che sta facendo Questo allenatore Che è arrivato Piano piano La fermana Riprenderà a camminare E non avrà problemi Per salvarsi E anche se Non toccherà niente Domani È l'ultima L'ultimo L'ultimo giorno Di mercato E sappiamo bene Che magari La fermana Qualche altra operazione Magari L'ha anche Già fatta Ma naturalmente Con la partita In corso di oggi La ufficializzerà Solamente domani Se non la farà Vuol dire Che ha fatto I suoi calcoli E che Ritiene Di essere al completo A livello di organi Allora Cominciamo a vedere Alcune immagini Partendo proprio Da questo 2 a 2 Al Porta Elisa Tra Lucchese E Ancona Matelica Ripeto È un punto Comunque prezioso Per la formazione Di Colavitto Contro una squadra Che ha Dai continuità Esatto Dai continuità Contro una squadra Tra l'altro Che ha comunque Delle qualità Vediamo come è maturato Questo 2 a 2 Vivi le tue emozioni Realizza i tuoi sogni Realizza i tuoi sogni Crea il tuo spazio About home Arredamenti Vieni a trovarci presso il nostro showroom di Iesi in via Marconi 119 L'Ancona Matelica torna con un buon punto dalla seconda trasferta consecutiva in Toscana Impattando 1 a 1 a Luca I ragazzi di mister Colavitto seguiti anche da un piccolo numero di sostenitore al Porta Elisa Devidono la posta proseguendo nella striscia positiva Sette giornate con 15 punti Mister Pagliuca sceglieva il classico 4-3-1-2 Outfedato in avanti spazio alla coppia Babbi Semprini con Bellone alle spalle La risposta dei Dorici era affidata alla conferma quasi totale del blocco capace di imporsi per 5-0 a Ponte d'Era Le uniche variazioni riguardavano il pacchetto arretrato dove Maurizio e Masetti si avvicendavano con Bianconi e Di Renzo Partenza shock dopo appena un minuto il calcio d'angolo dalla destra si trasformava in un perfetto asis per la testa di Semprini Con la difesa ospite però immobile che portava in vantaggi i rossoneri autori quindi di un avvio a sprombattuto Dopo la doccia fredda l'Ancona Matelica provava a riorganizzarsi e a cercare spazi trovando un micidiale 1-2 Il pari arriva al quarto d'ora con Fagioli in mischia con contestazione dei paroni di casa Ma la palla ha comunque oltrepassato nettamente la linea di porte e la posizione dell'attaccante sembra regolare E poi ancora con il numero 18 dal dischetto, undicesimo sigillo stagionale dopo un fallo su Moretti in aria travolto nettamente da un difensore Nel mezzo il grande intervento di Coletta smanacciare in angolo una punizione di destro di Capitan Papa dalla sinistra destinata sotto la traversa Nella ripresa subito Benzaia rilevava da Minala le chiavi del centrocampo con i toscani che con la girata di Visconti dalla sinistra Mentre gli ospiti sembravano in controllo si riportavano invece in parità all'ottavo minuto Nulla da fare per il riconfermato Avella tra i pali L'Ancona Matelica provava subito a reagire con Capitan Papa che su punizione centrava la traversa da lunghissima distanza Ma i locali non stavano a guardare con lo stesso Benzaia che dopo un'azione piuttosto concitata poco dopo lambiva il palo con una rasoiata dal limite Mister Colavitto gettava nella mischia Rolfine e Gasperi e proprio dal corner del primo spizzato dal secondo Nasceva l'inzuccata di Delcarro con palla di poco alta sul montante Nell'ultima frazione di partiti i parroni di casa restavano in dieci per il doppio giallo combinato a Corsinelli Nel finale un pericoloso contropiede della Lucchese veniva sventato da Gasperi Mercoledì sarà già di nuovo ora di scendere in campo I biancorossi sono attesi dalla terza trasferta consecutiva questa volta in Sardegna in casa dell'Olbia battuta nella partita delle 12.30 3-0 a Cesena Primi messaggi proprio per i nostri ospiti del Monte Giorgio Grande Santoro partita tosta oggi e di sacrificio E poi ancora Monte Giorgio grande società Monte Giorgio grande società tosta Mister Tosto tifosi al top Grandi tutti forza Rosso Blu Quindi società mister Anche la squadra è tosta? Sì sì fortunatamente anche la squadra è tosta Ci mancherebbe altro Poi tra l'altro il carattere bisogna tirarlo fuori No per tirarsi fuori Sì in queste situazioni il carattere che deve venire fuori proprio per tirarsi fuori da quelle Da quelle situazioni di classifica che ci hanno messo un po' in difficoltà Il valore aggiunto come per l'Ancona Materica Alessandro potrebbe essere Papa Che nel giorno di andata abbiamo visto poco molto poco ma un giocatore che conosciamo benissimo Che in Serie C ci ha fatto il callo e che potrebbe dare un grande contributo È vero e ti dico che io ho avuto questa piccola paura quando ho sentito che quasi era sul mercato Perché è un giocatore che conosco bene e secondo me è un giocatore che se torna ai suoi livelli Come ha fatto in queste due partite No in C è un fattore È un giocatore quindi secondo me Papa è uno degli acquisti dell'Ancona Vediamo i risultati della ventiquattresima giornata di questo campionato di Serie C Girone B Che poi si appresta ad un tour de force clamoroso di cui parleremo I risultati maturati oggi sono stati i seguenti Cesena batte Olbia 3 a 0 A Chiavari Modena batte Virtus Sentella 2 a 0 Fermana Carrarese 0 a 0 Gubbio Grosseto 0 a 0 Rimolese batte Teramo 1 a 0 Lucchese e Ancona Materica 2 a 2 Montevarchi Pontedera 0 a 0 A Pistoia Vispesero batte Pistoiese 1 a 0 Reggiana batte Siena 1 a 0 A Viterbo Pescara batte Viterbese 3 a 1 In classifica Reggiana e Modena in testa con 54 punti Cesena 43 Pescara 38 Virtus Sentella e Ancona Materica 36 Vispesero e Gubbio 30 Olbia e Carrarese 28 Lucchese 27 Pontedera 25 Siena 24 Rimolese 23 Montevarchi Teramo e Fermana 22 Grosseto e Pistoiese 16 Chiude la Viterbese con 15 punti Nella parte medio-bassa il colpaccio l'ha fatto Limolese che approfittando della superiorità numerica ha battuto proprio nel finale il Teramo una squadra quella romagnola che sta cercando di riprendersi ha avuto una grandissima partenza poi un momento di blackout totale adesso sta cercando di risollevarsi un po' e questo è un colpo che potrebbe un po' spostare gli equilibri Sì, si sta riprendendo non ci dimentichiamo che aveva fatto la prima parte di stagione l'avevamo quasi data come rivelazione che giocava anche un calcio abbastanza carino diciamo che giocava abbastanza bene poi dopo ha avuto come tutte le squadre giovani non dimentichiamo che c'era avuta anche l'Ancona un periodo di sosta e adesso sta ripartendo bene oggi comunque sia dimostrato che comunque sia lotta sino alla fine e quindi sino alla fine è riuscita a trovare il gol se riprende a camminare è ovvio che insomma è una di quelle squadre che pur giovani comunque può dar fastidio a chi lotta per non stare imbischiato nei play-out Senti, il Siena tutti dicono che prima o poi risale però intanto continua a perdere anche se oggi ha perso Reggio Emilia cambiano giocatori, cambiano allenatori però a 24 punti quindi in piena bagarre in teoria è destinata secondo te a soffrire sino alla fine? Sono di quelle situazioni particolari pur avendo una squadra importante come l'aveva la Viterbese che oramai l'ha smantellata perché sta vendendo e quindi sta cercando di rimettere in sesto un po' tutto però anche il Siena è anche una piazza importante dove se non fai risultati soffri perché comunque sia sono quelle piazze belle, importanti dove hai il seguito di pubblico però nel momento in cui non vai bene certi giocatori possono anche soffrire di questa cosa Sara ha seguito per noi Fermana Carrarese vediamo il suo servizio su questo 0-0 comunque prezioso poi questo punto alla fine perché la Carrarese è sicuramente una buona squadra e lo ha dimostrato anche oggi a Rechioni vediamo L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine la nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini in nove posti Autonoleggio Alidama qualità e assistenza nell'autonoleggio La Fermana ospita la Carrarese nella 24esima giornata del campionato di Serie C Girone B quarta di ritorno che si conclude sullo 0-0 finisce a reti inviolate al Bruno Recchioni con i canarini che si rendono più pericolosi nel primo tempo e gli ospiti nella ripresa a prevalere su tutto la buona prova dei due estremi difensori che lasciano il risultato a reti inviolate Cronaca Riolfo propone Panitteri e Frediani a supporto di Cognegni con Baia a sostituire lo squalificato Graziano e Rodio preferito dall'inizio a Sperotto Nella Carrarese è schierata la difesa ormai consolidata Berardocco a centrocampo in zona regia Bramante trequartista dietro a Dumbia e Petrelli è schierato dal primo minuto di gioco Decimo, occasione fermana Frediani serve Rodio che entra in area si libera di un avversario ma il suo destro finisce alto di pochissimo poco dopo la mezz'ora uscita il volo di Ginestra sulla prima vera insidia della Carrarese Al trentottesimo cross da sinistra di Frediani gran colpo di testa in schiacciata di Cognegni altrettanto ottima la risposta dell'estremo difensore ospite che si salva in corner Nell'angolo seguente svetta scrosta ma la palla finisce a lato di poco finisce così sullo 0-0 il primo tempo La ripresa inizia subito con un'insidiosa conclusione di Bramante Ginestra c'è La Carrarese si chiude bene e prova a giocare tutto sulle ripartenze Al ventinovesimo doppio cambio fermana dentro Chiare Matengo per Frediani Rossoni per Alagna e al trentacinquesimo Cognegni e Scrosta lascia nel posto a Marchi e Sperotto L'ultima occasione della gara è al trentanovesimo con Baie che ci prova dal limite dell'area e sfiora la traversa Finisce dunque 0-0 un punto a testa e mercoledì si torna in campo sempre al Bruno Recchioni contro il Gubbio Sì perché parte un vero e proprio tour de force Alessandro sette gare nel mese di febbraio che meno male è il mese più corto dell'anno praticamente le squadre sono letteralmente in apnea poco spazio per gli allenamenti via tutta birra visto che si gioca ogni quattro giorni come si riesce a gestire un ritmo che è impensabilmente infernale secondo me? Lì fa la differenza la rosa che tu hai Io ti posso dire che l'Ancona è una di quelle squadre di quelle società che hanno messo a disposizione l'allenatore una rosa adatta a poter fare questo turnover perché insomma chi si permette di tenere Riolfini, Gasperi, Palesi che è arrivata adesso in panchina io credo che possa soprattutto dalla cintola in su possa sicuramente ma adesso verrà fuori ecco l'altro giocatore che non è andato via che io sono convinto ma lo ero dall'inizio che è un giocatore importante Bianconi è un altro di quei giocatori che dietro può dare una mano l'ha dimostrato anche la partita passata l'Ancona secondo me ha una rosa adatta a potersi giocare queste partite questo scorcio di partite che sono sette una dietro l'altra chi non ha una rosa ampia può trovare difficoltà tra infortuni recuperare poi tutto questo avviene dopo che tu sei stato fermo per un mese e mezzo esatto e questo non è poco qualche giocatore ancora deve ripartire che magari aveva finito la stagione il primo periodo a dicembre alla grande e ancora deve ripartire perché ci sono dei giocatori che hanno bisogno di avere del tempo anche come strutture e tutto quanto e quindi sarà difficile chi non ha una rosa che possa permettere ecco perché dico che queste società tipo Lucchese, Montevarchi, Carrarese anche che anche loro hanno una squadra abbastanza giovane potrebbero soffrire quindi ecco adesso è il momento in cui se riesci a riprenderti bene se no potresti essere invischiato rimane invischiato in situazioni poco piacevoli Senti, mercoledì c'è tra le altre partite Reggiana Modena perché è un super derby che potrebbe davvero valere un campionato tra le due dominatrici del girone Hai una preferenza? Premettendo che entrambe hanno un organico davvero da categoria superiore da una parte c'è un tecnico super esperto come Tesser dall'altra un emergente come Aimo Diana che a Reinate ha fatto benissimo Io le sto seguendo tutti e due Io dico che probabilmente la Reggiana è più piacevole da vedere come squadra mentre il Modena è una squadra più sorniona però è una squadra tosta un allenatore a parte che lo conosco molto bene Tesser da una vita quindi magari la simpatia potrebbe ricadere lì per questo motivo però vedo che secondo me è una di quelle squadre che non si venta niente il risultato va ottenuto in una certa maniera oggi per un tempo ha sofferto contro Lentella però è venuta fuori poi dopo è scesa in campo i primi minuti del secondo tempo ha fatto gol via 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 ha fatto il secondo di queste squadre che magari a cui non interessa né farsi piacere né il risultato è la cosa più importante e vince la chiave risposta sposta tantissimo non pensavo insomma neanche però sarà una partita importante bella perché comunque sia sono le migliori squadre i migliori organici peccato che si gioca di mercoledì se si giocava di domenica in condizioni normale era una partita da 25 mila spettatori però sicuramente vedrai che che al di là del fatto adesso del col fatto del covid più di quelle non possono andarci però ci sarà ci sarà il pubblico delle grandi occasioni assolutamente per quello che può essere andiamo a vedere invece Pistoiese e Vispesoro la decisa quindi serata veramente amarissima per Marco Alessandrino un giocatore che Marco conosce benissimo come Nicolo Gucci tra l'altro un ex vediamo Spazio Conad Ancona al centro commerciale Conero è l'ipermercato più grande delle marche con i suoi 6.000 metri quadri completamente rinnovati in cui puoi trovare 40.000 articoli di vendita uno spazio di nuova generazione con una ristorazione per 140 posti a sedere e un bar caffè vergnano all'interno dell'ipermercato e pet store con tolettatura e lavaggio aperto anche nei weekend 7 giorni su 7 Spazio Conad via Scataglini Ancona colpo fondamentale della Vispesoro che sbanca Pistoia e guadagna 3 punti d'oro per la sua classifica si accentua invece la crisi degli Orange la grande malata del campionato di Serie C esordio quindi amaro per il nuovo tecnico Marco Alessandrini mentre la nuova proprietà Lehmann fa 2 su 2 Capore Gemilia sconfitta tra le mura mica appunto Pistoiese alle prese con una rosa limitata tante troppe cessioni per un solo volto nuovo Suciu schierato subito nell'undici titolare un paio di casi di covid e qualche infortunio primo tempo tutto sommato equilibrato con predominio territoriale arancione e qualcosina di più costruita dalla squadra di casa al quarto lanciato da Stiepovic Vano ci prova con un diagonale dalla destra ma spara alto poco dopo il quarto d'ora Stiepovic svirgola la conclusione dai 16 metri la Vispesero si affaccia nell'area ospita al 33esimo con Marcandella che però sparacchia da buona posizione spedendo alto sopra la traversa è il miglior momento della Pistoiese al 36esimo Moretti pesca Vano a centro area ma il colpo di testa dell'attaccante fa terminare il pallone a lato pochi secondi dopo D'Antoni servito da Suciu spreca dalla sinistra tiro telefonato che finisce tra le braccia di Campani che oggi sostituisce Farroni al 39esimo Gucci lanciato dinanzi alla porta da Marcandella non riesce a superare Pozzi che devia la palla in angolo sugli sviluppi il colpo di testa di Gavazzi non c'entra allo specchio della porta inizio di ripresa decisivo al sesso infatti ha la prima vera opportunità da rete i bianco-rossi passano in vantaggio bel cross dalla sinistra l'ex Gucci che Alessandrini conosce molto bene sbuca in area tra due difensori colpendo di testa e mandando il pallone nell'angolino alla destra di Pozzi poca cosa alla reazione dei palloni di casa al 13esimo c'è una bella discesa di Mezzoni sulla destra pregevole traversone sul primo palo dove Sottini manca la deviazione vincente da due passi sterili gli attacchi della Pistoiese la Vispesero si copre e riesce a concludere con gioia al triplice fischio per i pesaresi che riscattano il capitombolo con il Teramo vendicano la sconfitta dell'andata si rilanciano in piena zona playoff ed inguaiano ulteriormente Alessandrini e la sua Pistoiese davvero con un mare di problemi diciamo in bocca al lupo a Marco Alessandrini ma ripeto la situazione è davvero molto molto delicata vediamo le partite che si giocheranno appunto mercoledì turno infrasettimanale il primo dei tanti in questo mese di febbraio le partite quasi tutte alle 21 saranno Cesena Lucchese Virtus Entella Montevarchi Fermana Gubbio Crosseto Pistoiese Molese Viterbese Olbia Ancona Matelica Pescara Carrarese Ponte Dera Vispesero che si giocherà alle 18 Reggiana Modena e Siena Teramo quindi per la Fermana un altro match casalingo contro il Gubbio coefficiente di difficoltà anche qui piuttosto alto ma chiaramente la Fermana deve cercare di sfruttare questo turno casalingo no Alessandro anche se il Gubbio è da temere adesso il coefficiente di 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 pericolosità delle squadre avversarie deve venire meno perché tanto i punti servono qui sicuramente devi cercare di fare il più possibile soprattutto la Fermana quando parliamo di Pistoiese di Viterbese che hanno cambiato tanto in più la Pistoiese e anche l'allenatore sarà un problema anche il fatto che giocheranno sempre l'allenatore nuovo che è arrivato non ha tempo per lavorare ma la Fermana l'allenatore comunque sia ha già dato una sua impostazione quindi adesso si deve chiudere gli occhi chi c'è davanti non ha con il loro blasone o meno non ci sono problemi e bisogna far punti perché è il momento giusto per poter da queste sette partite se si vuole uscire fuori da questa situazione bisogna tirar fuori il massimo se no diventa difficile qualche recriminazione a fermo anche su qualche decisione arbitrale non Sara? Sì diciamo che è finito in pareggio insomma come abbiamo visto in parità 0-0 ma se c'era una squadra che forse meritava qualcosina in più era proprio la Fermana che peraltro anche recriminato per un calcio di rigore che però non è stato concesso dal direttore di gara quindi poi tutto si è un po' risolto con un nulla di fatto e infatti reti inviolate e allora serie di girone F diciottesima giornata vediamo i risultati che sono maturati oggi era la prima del girone di ritorno rinviata a Castelnuovo Mano Pineto le partite che si sono giocate invece Castelfidardo Vasto Girardi 0-0 Chieti batte Nereto 2-0 Matese Portodascoli 1-1 Montegiorgio batte Alto Casertano 2-0 Annotaresco vince il Fiugi 2-0 0-0 tra San Benedettese e Trastevere 0-0 tra Tolentino e Recanatese 1-1 tra Vastese e Fano vediamo la classifica che non muta moltissimo in vetta Recanatese 40-0 Trastevere con una partita in meno e Fiugi 35-0 San Nicolò Notaresco 31-0 Portodascoli 29-0 Vastese 28-0 Tolentino 27-0 Pineto e Vasto Girardi 25-0 Montegiorgio e Castelfidardo 23-0 Matese Chieti 21-0 Castelnuovo e San Benedettese 20-0 Fano 19-0 Nereto 9-0 Alto Casertano 2-0 Chi rischiava secondo te Alessandro Di Più la Recanatese a Tolentino o il Trastevere a San Benedetto? Il Trastevere a San Benedetto perché la San Benedettese adesso può incominciare a lavorare con tutta la squadra al completo e sono convinto che piano piano verrà fuori e la Recanatese continua a dire dall'inizio dell'anno quando ancora doveva giocare che secondo me quest'anno lasciando perdere la partita passata con il Chieti dove ha avuto una battuta d'arresto e ripeto nella ripartenza può succedere anche questo i valori tra Tolentino per quanto abbia sia un allenatore che un modo di giocare importante a livello di cattiveria di grande grinta e via dicendo le qualità tecniche della Recanatese sono molto differenti e le ha fatte vedere anche oggi nonostante ha giocato il secondo tempo in inferiorità numerica ma alla fine le occasioni migliori almeno nella ripresa l'ha avuto proprio la formazione giallorossa è stato quasi un duello tra senigalliesi e il portiere del torino bucosse quest'ultimo da seguire davvero con grandissima attenzione e di interesse rimane a più cinque la formazione giallorossa che però domenica ha proprio la San Benedettese che ripeto in questo momento è un ostacolo di grandissima difficoltà affrontarla proprio in questo momento in questa fase di campionato poi la Recanatese lo ricordo sarà impegnata il mercoledì successivo anche in Coppa con lo Scandici quindi c'è questo duplice impegno c'è forse il risultato a sorpresa Alessandro Del Fiucci che vince a Notaresco una squadra che sembrava smobilitazione totale così è stato però hanno acquistato qualcosina vincono a Castelfidardo e oggi a Notaresco probabilmente entrando all'interno delle operazioni di mercato probabilmente anche loro hanno cercato di sistemare hanno fatto a meno magari di qualche giocatore che magari economicamente costava di più perché credo che da quello che ho capito le problematiche siano quelle del Fiucci e probabilmente con l'allenatore che ha dato le giuste direttive hanno preso qualche altro giocatore che poteva fare al loro caso e stanno continuando il percorso che avevano iniziato all'inizio dell'anno però io credo che il Fiucci oramai è una società e anche una squadra consolidata negli anni perché ormai è tre anni che fa questo campionato conosce il Girona F e sono convinto che sino alla fine darà fastidio alle altre poi che possa che possa arrivare sino alla fine e giocarsi la Serie C qualche dubbio l'ho però che dia fastidio e che possa arrivare ai playoff probabilmente sì Allora andiamo a vedere proprio l'ampio servizio su questa partita molto attesa era un derby tra l'altro davvero molto sentito per la Re Canatese Tolentino è stato sempre un campo difficile e complesso per mille motivi è venuto fuori questo 0-0 che lascia le cose inalterate ma alla fine ripeto è stato quasi un duello tra Senigallesi uno degli ex e il portiere del Tolentino Bucosse vediamo una nuova dimensione di ibrido un nuovo modo di viaggiare abbiamo progettato un SUV di livello superiore lo abbiamo fatto per te Suzuki S-Cross Hybrid Next Level SUV Suzuki Mosca Automobili concessionario ufficiale Suzuki vi invita a scoprire l'intera gamma due o quattro ruote motrici nelle sedi di Re Canati Macerata Civitanova Marche e anche Ancona Prima giornata di ritorno del girone F della Serie D al della vittoria Tolentino Re Canatesi due formazioni alla ricerca dell'inversione del Rorino di Marcia dopo gli ultimi 90 minuti che hanno fatto registrare due sconfitte per entrambi le condendenti un derby più che mai sentito tra le due compagini con tanti ex in campo Minella Senegallesi nella formazione giallorossa quest'oggi scese in campo con la Maglia Nera e Capezzani e Padovani ora in Maglia Cremisi e soprattutto per il mister ospite Giovanni Pagliari Tolentinate Doc che risiede proprio nella città di Tolentino ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un vero derby e soprattutto con la voglia degli ospiti di riscattare il 4-0 subito nella prima gara del girone di andata quattro gli indisponibili Mengani e Padovani per i padroni di casa la Giampaola insomma invece nelle file ospite il 3-5-2 consueto per il Tolentino che schiera al primo minuto come coppia d'attacco Severini e Zammarchi Giovanni Pagliari invece si affida al classico 4-2-3-1 con Minella più avanzato a supporto della linea 3 composta da Minicucci Sbaffo e Senigayesi 5 gli under nella formazione di mista Andrea Mosconi 1 in meno invece negli 11 messi in campo dal trainer Lopardiano pronti e via nemmeno un giro di orologio azione sul settore sinistro tocco di tortelli per Severini palla sopra il montante sono sempre i padroni di casa a portarsi in avanti al sesto minuto dopo un calcio piazzato Salvaterli prova la conclusione Tortelli si avventa sul pallone e Sfera che finisce sul fondo un minuto più tardi il trainer locale deve sostituire per infortunio Stefani classe 2003 e getta immediatamente nella mischia Giacomo Lattanzi classe 2004 con il trascorrere dei minuti gli ospiti guadagnano il controllo del gioco a metà campo al 27esimo la prima vera occasione a favore degli ospiti per sbloccare il risultato Lucas Negaglie si recupera su Tortelli si incunea in aria ma Bucoste sventa il tutto deviando in anna al 33esimo ripartenza ospite Minicucci si porta in avanti ripartenza dopo aver percorso buona parte del campo di gioco la sua conclusione viene però fermata in tuffo da Bucoste ultimo sussulto della prima frazione di gioco al 40esimo punizione Cremisi Severini pennella il pallone per la testa dei nonni che spedisce però di un nulla al lato stessi effettivi in campo nella ripresa al secondo minuto ancora Severini a dettare l'ultimo guassaggio questa volta Tortelli mette però alto al quarto della ripresa ospiti che rimangono in dieci Rapparo contrasta Capezzani a metà campo l'arbitro punisce l'intenzionalità rosso diretto ed ospiti che rimangono in inferiorità numerica mister Pagliari richiama in panchina Minella e mette dentro Greco in campo l'inferiorità numerica ospite non si vede all'undicesimo sbaffo dopo un pasticcio del reparto arretrato dai padroni di casa si ritrova il pallone sui piedi può battere a botta sicura ma Bucos si supera nonostante la posizione di fuorigioco del numero 10 ospite al quindicesimo Alessandretti subentrato a Melcoloni stende Severini punizione locale batte Capezzani Urbietis risponde presente tre minuti più tardi il calcio dà fermo in favore dai giocatori in maglia nera sul punto di battuta senegallesi Bucos si rifugia di nuovo in angolo spingono sempre più gli ospiti alla ricerca del vantaggio siamo al ventitresimo scampio sbaffo senegallesi reparto difensivo Cremisi rimane fermo ma la conclusione degli ex Cremisi si spegne sull'esterno della rete diventa una sfida personale tra il numero 11 ospite e il numero 11 locale al trentaduesimo si supera ancora il portiere del Tolentino su conclusione di senegallesi al quarantesimo il numero 11 ospite ci prova dalla distanza con i pugni Bucos respinge in angolo nonostante quattro minuti di recupero la gara si chiude in parità 0 a 0 un punto a testa che serve ad entrambi le contendenti a muovere la classifica e guardare dal proseguo della stagione Allora mister dal punto di vista mentale del gioco la risposta che si aspettava dopo la sconfitta di domenica scorsa è arrivata a 94 minuti 94 minuti di gioco combattuto Domenica è stata una sconfitta immeritata prima di tutto oggi abbiamo fatto una buona squadra una buona gara contro una corazzata abbiamo fatto un primo tempo equilibrato secondo tempo per assurdo dopo l'espulsione loro ci è mancato un po' di coraggio un po' di sfrontatezza per provarci via perché assurdo loro hanno fatto meglio addirittura quando sono rimasti in 10 però abbiamo fatto una buona gara era importante per noi ritrovarci sotto il profilo della guerra della battaglia che su questo campionato sono armi che fanno la differenza poi pur essendo una partita un po' sporca ci siamo avuti tra quattro occasioni che magari sia il primo tempo sia il secondo tempo rispetto a loro se aiutavamo bene potremmo fargli male loro l'hanno chiusa bene è stato bravo Bucos in due o tre occasioni anche perché il portiere fa parte del calcio domenica magari non ci ha dato una mano è stata domenica ce l'ha data è fondamentale quando l'episodio ti cambia la partita però bisogna essere orgogliosi di questi ragazzi perché tra noi e loro c'è tanta differenza a livello di budget perciò noi siamo orgogliosi contenti dei ragazzotti dei ragazzotti nostri in avanti per la strada nostra quello che sta facendo il torrentino è qualcosa di importante però l'ha portato fino alla fine con la salvezza la commissora oggi c'era qualche acciaccato che non era disponibile comunque è stata una settimana in cui si è potuto lavorare e anche sotto il punto di vista della forma fisica si è vista una squadra diversa sì ancora non siamo al top come prima di Natale prima della sosta ancora non siamo noi ma anche perché noi c'è per assurdo se ti manca uno o due giocatori facciamo un attimino fatica non dobbiamo recuperare Pado ma con l'atteggiamento giusto con la testa giusta non il Pado che ha giocato fino adesso ci aspettiamo un altro giocatore e poi noi dobbiamo giocare sempre così con il cuore con il coraggio la voglia che dobbiamo riuscire prima di tutto a salvarci che per noi come reganatesi magari loro per vincere il campionato a salvezza una cosa importante magari mettere in mostra qualche ragazzotto nostro che oggi noi abbiamo fatto una sessione dopo due minuti è entrato in 2004 che aveva 15 minuti sui gambe anche lui che non si era allenato però dobbiamo soltanto fargli i complimenti e essere orgogliosi di quello che stiamo facendo cioè non è che magari un episodio negativo una partita deve andare a monte tutto quello che sta facendo il torrentino il torrentino sta facendo grandi cose e bisogna continuare non è che una partita è andata male fa cambiare idea e giudizio sui giocatori sul campionato che sta facendo la squadra la squadra sta facendo grandi cose e bisogna continuare così allora mister Pagliari derby fino al 94 vivo e intenso due squadre che praticamente hanno cercato di vincere l'incontro sia l'una che l'altra squadra sì sì ma noi giochiamo sempre così mi dispiace che nel secondo tempo sebbene l'albitro ci ha messo il suo zampino per lasciarci in dieci noi abbiamo fatto meglio il secondo tempo che il primo e abbiamo creato tutte le occasioni clamorose dove Bucuose secondo me è stato strepitoso con il Senigagliesi però questo è il calcio non posso rimproverare niente devo solo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande partita con una squadra sempre difficile da affrontare con grande aggressività ma io conosco sia Andrea che i ragazzi perciò anche loro hanno fatto di tutto per portare a casa il pareggio quindi la risposta che si aspettava mister dopo la sconfitta di domenica scorsa sostanzialmente è arrivata sì sì ma ripeto questo gruppo ha sbagliato una partita e mezza che una all'andata con il Tole e l'altra a Chieti che tra l'altro sbagliata relativamente perché il Chieti ha superato tre volte la metà campo la partita l'abbiamo fatta noi però mentalmente non eravamo come quelli di oggi e come siamo sempre stati con la volontà ferrea di voler vincere di giocare a calcio e va bene quando è così a me sono contento così insomma nonostante comunque l'inferiorità numerica nell'ultima mezz'ora le occasioni più pericolose l'ha creata la tua squadra sì sì la squadra sta bene è un momento buono giocavamo solo tra l'altro con sbaffo davanti senza attaccanti teoricamente però abbiamo dei giocatori che sulle fasce che a metà campo si inseriscono bene e abbiamo creato delle cose interessanti senza rischiare niente perché non ricordo un'occasione del Tolentino perciò complimenti ai ragazzi c'è un po' di rammarico però va bene adesso pensiamo già alla San Benedettese qualche messaggio prima di conoscere meglio il nostro ospite Leonardo Santoro centrocampista del Monte Giorgio forza alma sempre speriamo nella risalita poi ancora il pubblico di Iesi deve ritornare subito in D non merita questa categoria e anche oggi l'ha dimostrato basta un buon centrocampista e una spalla per perri e si può veramente tornare subito in D poi ancora Mosconi ha detto che lo 0-3 col Monte Giorgio è stata una sconfitta immeritata bel coraggio che hai ciao da Ardito Desio beh a questo punto abbiamo gli ospiti o Desio insomma abbiamo gli ospiti del Monte Giorgio chiamerei in causa proprio loro quindi partiamo proprio da Leonardo Santoro cosa ne pensi? beh penso che è stata una partita equilibrata non penso che sia stata una sconfitta immeritata penso più sia stato merito nostro della squadra di reggere l'urto fino alla fine poi nel calcio ci sono gli episodi vedi il rigore sbagliato appunto dal Tolentino e la partita si è ribaltata al nostro favore poi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e si è chiusa sul 3-0 la partita non condividi quindi? no diciamo di no poi abbiamo effettuato un cambio anche noi al posto di Alessandro Cosu è entrato Federico Gagliardini portiere del Monte Giorgio un commento proprio sulla partita che vi ha visto insomma triunfare col Tolentino allora buonasera a tutti alla luce delle dichiarazioni del mister ovviamente sì no la sconfitta è meritata non sono d'accordo un po' come diceva Leo è stata decisa da un episodio è stata una partita equilibrata sicuramente il 3-0 forse è un risultato più molto ampio rispetto a quello che ha detto il campo però ecco sul rigore è stato un episodio che ha girato a nostro favore poi siamo stati comunque bravi dopo il rigore a creare diverse occasioni da golle essere cinici a trasformarle diciamo tutte e tre ecco sostanzialmente tre abbiamo avuto tre importanti palle e gole siamo stati ai bravi a fare tre gol ecco ma guardiamo avanti questa ormai è acqua passata come dicevo conosciamo meglio Leonardo Santoro giovane centrocampista del Monte Giorgio classe 2001 giusto? insomma giovanissimo ma seppur giovane raccontaci un po' la tua breve carriera proprio perché sei così giovane sì io ho iniziato diciamo a Loreto a giocare a calcio quando ero piccolino piano piano poi sono andato in Ancona a fare i giovanissimi nazionali e da lì poi sono stato nelle giovanili due anni del Bologna e poi da lì sono stato girato un po' in prestito tanto che due anni fa appunto sono arrivato qua a Monte Giorgio e questo è il terzo anno ormai che sono qua e posso dire che mi trovo bene è una società è una società seria che punta tanto sui giovani e quindi è diciamo una piazza importante per mettersi in mostra per appunto un ragazzo come me per cercare di di farsi vedere ecco di spiccare il volo possiamo dire che è un buon punto di partenza per per chissà in un futuro cercare qualcosa in più ecco per scaramanzia non diciamo niente però l'obiettivo di ogni giocatore è quello di arrivare nei professionisti quindi penso però che adesso in una situazione come la nostra c'è da pensare al campionato perché dobbiamo come dicevo prima salvarci il prima possibile e toglierci da questa situazione un po' scomoda quindi testa il campionato di quest'anno e poi il futuro si vedrà dici anche le frasi proprio esatte come giocatori professionisti già quindi perfetto ma sei un centrocampista hai l'imbarazzo della scelta qual è il giocatore a cui magari ti ispiri o adesso diciamo mi piace molto come giocatore De Bruyne però è ovvio che arrivare a quei livelli è qualcosa di sbalorditivo però diciamo è lui la mia il mio idolo l'ultima domanda un messaggio parlava di te come hai fatto una partita tosta con tanto spirito di sacrificio sono un po' le tue caratteristiche queste diciamo sono le caratteristiche che servono adesso in questo momento alla squadra tutti a servizio di tutti perché è stato un giorno d'andata molto difficile e ci siamo ritrovati in una situazione scomoda e adesso tutti dobbiamo sacrificarci per riuscire a raccogliere quei punti che ci sono mancati nelle prime giornate beh De Bruyne è un bel modello sicuramente allora Federico è iniziato il girone di ritorno molti sostengono davvero che si tratti diciamo di un giro di boi importante quasi un altro campionato però facciamo un passo indietro e parliamo del vostro campionato sinora vincete a Tolentino alla grande l'abbiamo detto almeno a livello di risultato vincete sul campo del Matese battete in casa il Fano la San Benedettese Porto d'Ascoli se non ricordo male però anche scivoloni pesanti come quelli casalinghi con Castelfidardo e Castelnuovo domanda facile come mai? c'è una spiegazione o è frutto della casualità? è stato un giurone d'andata sì un po' imprevedibile diciamo il nostro abbiamo avuto magari periodi dove abbiamo fatto tre vittorie di fila e poi abbiamo fatto all'inizio quattro sconfitte di fila quindi è stato abbiamo avuto un cammino molto altalenante dare delle spiegazioni non è semplice perché abbiamo sempre lavorato molto bene secondo me anche anche nel giurone d'andata avevamo un gruppo una squadra un gruppo unito una squadra anche tecnicamente valida uno staff che lavora secondo me molto bene quindi gli unici problemi che vedevo nel giurone d'andata erano purtroppo legati ai risultati quindi ora la concentrazione nostra deve essere nell'avere continuità e quindi nel mantenere alta la concentrazione la determinazione e lo spirito di sacrificio che diceva Leo per non per due o tre partite ma per tutto il giorno di ritorno senti Federico voi vi trovate a competere in una zona di classifica con delle corazzate penso a San Benedettese Fano ma anche Chieti è un aspetto che vi preoccupa e chi ritieni possa essere riconvolto nella zona playoff che nella zona play out che magari adesso pensa ai playoff ma potrebbe essere risucchiato nella parte bassa della classifica ma sicuramente ci sono squadre come direi San Benedetto su tutte ma anche Fano che ci si aspetta che prima o poi facciano il click decisivo e vadano via da quelle come si suol dire che risalgano la china sì per organico ci si aspetta che a fine stagione non siano in queste zone di classifica ovvio invece che speriamo di riuscire a riprendere Vasto Girardi anche lo stesso Tolentino cerchiamo di rimanere aggrappati e provare a scavalcarli e intanto il Fano oggi ha conquistato un punto direi pesante a Vasto campo difficile rimediando una partita che si era messa anche male vediamo il servizio una nuova dimensione di ibrido un nuovo modo di viaggiare abbiamo progettato un SUV di livello superiore lo abbiamo fatto per te Suzuki S-Cross Hybrid Next Level SUV Suzuki Mosca Automobili concessionario ufficiale Suzuki vi invita a scoprire l'intera gamma due o quattro ruote motrici nelle sedi di Recanati Macerata Civitanova Marche e anche Ancona Vastese e Fano si dividono la posta in palio succede tutto nella ripresa apre Alessandro risponde Tortori sul rigore mandiamo per ordine nei biancorossi da Dario conferma l'undici che ha travolto il Nereto sette giorni fa l'ex di giornata di allo titolare sulla fascia sinistra Catalano risponde con un 4-2-3-1 con Casola terminale offensivo Lavastese parte con il giusto piglio al settimo ci prova Alessandro tiro deviato in angolo la prima conclusione degli ospiti arriva al diciottesimo con Broso che calcia alle stelle dopo una bella azione corale al ventinovesimo occasione per Casola la sua conclusione viene smorzata da Di Filippo e Di Rienzo in uscita blocca senza patemi d'animo al trentasettesimo tiro cross di Ricci con Di Rienzo costretto a tornare sui propri passi per bloccare la sfera al trentanovesimo si rivede Lavastese con una conclusione di Alonzi che non trova la porta e questa l'ultima azione del primo tempo passiamo alla ripresa con le immagini di Odoardo D'Addario subito pericolosi marchigiani con un colpo di testa di Casola al sesto attento Di Rienzo che si distende e blocca alla minuto 11 calcio piazzato per i Granata con Herrera il numero 10 non trova la porta il Fano per lunghi minuti gestisce Lavastese sembra non essere in grado di sbloccarla ma al primo tiro in porta i Biancorossi passano al minuto 37 punizione di Agnello sbuca Alessandro che spinge la palla in rete per l'1-0 questo è il gol del numero 10 Biancorosso quest'ultimo ci riprova al 36esimo conclusione debole centrale in pieno recupero arriva il pareggio Beffa del Fano contatto in area di rigore Biancorossa con Lenoci che tocca un giocatore marchigiano al minuto 48 il direttore di gara Valentina Finzi non ha dubbi assegna il penalty sul dischetto va Tortori che spiazza Di Rienzo e fa 1-1 da qui a fine gara non succede altro Lavastese Masticamaro perché viene raggiunta nel finale i locali salgono a quota 28 in classifica il Fano bravo a crederci a Guanta un punto prezioso in chiave salvezza mister settimo risultato utile della sua squadra 5 vittorie 2 pareggi ma oggi vi è mancato calciare in porta su tutto queste sono partite che si vincono anche in questo modo contro un'ottima squadra che è il Fano e ci sono determinate partite che le devi vincere in questo modo perché si sbaglia una palla e devi punire invece noi non abbiamo non ci siamo riusciti però devo dire che comunque dall'altro lato anche loro hanno fatto una buona partita mister Catalano giusto il pareggio per quello visto in campo forse i punti meritavate anche di più della Vastese avete calciato di più in porta ma sì incontravamo una squadra forte in salute voi conoscete meglio di me e sono contento perché avevamo una serie di incognite legate ai 40 giorni fermi legate ai 14 casi covid che abbiamo subito negli ultimi nelle ultime settimane e quindi onestamente sono molto contento della prestazione della squadra sia in termini di compattezza sia in termini di spirito sia in termini di proposta di gioco è chiaro che è giusto che la Vastese oggi recrimini il fatto di aver subito gol al novantesimo però insomma penso che la squadra avesse dimostrato di meritarlo questo pareggio è un punto importante perché fa morale e un minimo muove la vostra classifica ma sì la classifica per carità è importante ma noi siamo veramente oggi era l'inizio di un nuovo campionato è come se avessimo fatto un ritiro e si ripartiva oggi è importante perché abbiamo dato un segnale da qualsiasi punto di vista l'andiamo a vedere abbiamo dato un bel segnale il segnale dovrà avere una continuità ovviamente a partire dal recupero in programma contro il Porto d'Ascoli che è davvero una sfida fondamentale per la formazione Granata ma torniamo a parlare del Monte Giorgio anche con Federico Cagliardini perché lo dicevamo anche in precedenza tradizionalmente voi Federico siete una squadra che sa risalire dalle difficoltà sa reagire insomma con carattere e determinazione sono aspetti che vi contraddistinguono anche quest'anno sì credo che l'abbiamo anche dimostrato comunque in questo girone d'andata perché come ti dicevo abbiamo abbiamo reagito a dei periodi dove i risultati non arrivavano abbiamo reagito bene abbiamo dimostrato di avere carattere ora quello che dobbiamo dimostrare in questo girone di ritorno è di di essere maturati e di essere in grado di dare continuità ai risultati senti è arrivato un elemento importante come Gabriele Zerbo 28 anni che ha una grande esperienza anche in Serie C transitato dalle nostre parti anche a fermo e anche lui potrebbe darvi un contributo molto molto importante in un organico che comunque ha elementi di esperienza ci mancherebbe altro sì si sono arrivati sia Zerbo che Marchionni due elementi di grande esperienza di grande qualità che sicuramente che sicuramente ci hanno giato e ci daranno una grossa mano da tutti i punti di vista sia tecnici che a livello di spogliatoio quale squadra poi lo chiederò anche a Leonardo vi ha fatto maggiore impressione nel girone d'andata tra tutte quelle che avete affrontato ma devo dire che noi per quella che è stata la nostra esperienza ce la siamo giocata secondo me alla pari con tutte tranne in due occasioni dove ho avuto la sensazione che ci fosse un divario un po' più ampio e parlo di Re Canatese e Trastevere che hanno almeno dimostrato contro di noi di avere qualcosa in più anche se voi la Re Canatese l'avete affrontata se non sbaglio a fine settembre inizio ottobre quindi eravamo proprio all'inizio del campionato sì anche il Trastevere parliamo di terza e quinta giornata e l'abbiamo trovate in salute noi no e quindi anche l'aspetto mentale era differente e è venuta fuori una partita con un divario ampio ora le ribecchiamo nel mese di febbraio quindi vediamo se noi siamo quanta crescita abbiamo avuto entrambi in casa poi tra l'altro se non ricordo male sì entrambi in casa Leonardo se devi scegliere una tra le due tra le due scelgo la Re Canatese che è quella che mi ha impressionato veramente di più come organico come giocatori anche come come singoli scelgo tra le due sì la Re Canatese come favorita torniamo invece nelle parti medio-basse della classifica era uno sconto diretto quello tra Castelfidardo e Vasto Girardi lo spettacolo oggettivamente è stato abbastanza deludente e forse lo 0 a 0 rispecchia quello che si è visto in campo cioè piuttosto poco almeno in termini di fatturato di occasioni ci racconta tutto nel suo servizio Lorenzo Ottaviani vediamo Caldaia Sicura riprendono gli accertamenti agli impianti termici in base alla normativa vigente gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione se un impianto termico non funziona bene ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente un impianto efficiente permette di risparmiare fai la manutenzione periodica della tua caldaia metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia la tua sicurezza è il bene più importante MPSPA meglio e prima finisce 0 a 0 il match del Mancini tra Castelfirardo e Basto Girardi ed è un punto che permette ai padroni di casa di interrompere la striscia negativa dei risultati partita poverissima di emozioni di spunti tecnici dominata da intensità e tattica a discapito del gioco il Castelfirardo doveva tornare a fare punti ha pensato principalmente a compattarsi dietro e non correre rischi gli uomini di Manoni hanno però palesato in attacco i soliti limiti di questa stagione il vasto Girardi ha tenuto il suo portiere praticamente inoperoso ad eccezione dell'occasionissima di Veraconi nel finale affidandosi in attacco all'estero dell'ottimo guida l'unico a regalare agli ospiti guizzi di pericolosità Castello al via senza bracciatelli e Marcelli ma con il recupero di Cardinali lo squalificato tecnico Manoni si sistema in tribuna all'undicesimo vasto Girardi che si presenta con una conclusione di guida deviata in corner da De Malia gara che scorre via senza emozioni anche se gli ospiti si fanno preferire in fase di costruzione di gioco venticinquesimo bella punizione di Alagia con palla che accarezza la traversa ventinovesimo si vede anche il Castello sugli sviluppi di un angolo tiro di Morganti che non inquadra lo specchio della porta tutto qui il primo tempo noioso e molto tattico il cui epilogo non può che essere lo 0-0 di partenza ripresa al secondo Castello vicino alla rete corner colpo di testa di Giega respinto in affanno dal portiere di Stasio insisto nei locali che sono più aggressivi e propositivi nel secondo tempo al quattordicesimo però pezzo di bravura di guida a gancio strepitoso bravo De Malia in uscita sbarraghi la strada match che con il passare di minuti si spegne subentra la paura di perdere le due squadre e nemmeno i cambi mutano la fisionomia della gara al trentacinquesimo però Braconi si divora l'unica vera palla-gol della partita e saltando i riflessi dell'ottimo di Stasio che neutralizzi i tre tentativi dell'attaccante locale il Castelfidardo finisce con Gega difensore centrale a fare la prima punta nel finale la gara non si sblocca e termina con un giusto 0-0 risultato che permette al vasto Girardi di rimanere a più tre sul Castelfidardo Un momento semplice quindi per la formazione bianco-verde vediamo quelle che saranno le gare in programma nel prossimo turno quindi domenica prossima la seconda giornata del girone di ritorno tra l'altro ci sono degli incroci davvero molto molto interessanti queste le partite in programma avremo Atletico Terme-Fiuggi-Chieti Aurora-Alto-Casertano-Tolentino Fano-Castelnuovo-Nereto-Matese Pineto-Montegiorgio Porto-Dascoli-Castelfidardo Recanatese-San Benedettese Trastevere-Notaresco e Vasto Girardi-Vastese quindi come detto la capolista Recanatese avrà un ostacolo molto difficile nella San Benedettese ma anche il Trastevere contro il Notaresco avrà la sua brutta gatta da pelare diciamo così come d'altronde il Montegiorgio che gioca sul campo del Pineto e Federico forse andate nel campo di quella che è stata la delusione maggiore di questo campionato sicuramente ci si aspettava di più dal Pineto sicuramente avranno voglia di risalire la classifica per entrare quantomeno nei play-off però ecco anche noi abbiamo voglia come dicevo prima di dar continuità e di andare a fare risultati a fame di punti insomma forse a fame di punti anche più noi non c'è dubbio allora vediamo invece rapidamente i recuperi di eccellenza poi parleremo anche diffusamente chiaramente della finale di Coppa che si è giocata nel pomeriggio a Senigallia quindi vediamo i risultati delle gare che si sono giocate nel pomeriggio in eccellenza abbiamo eccoli qua la vittoria del Fabriano Cerreto 1-0 a Montefano rinviata Porto Santerpito San Giustese San Marco Servigliano Biagionazzur 1-0 a Montesangius Urbino Vattevaldichienti 1-0 Marina Iesina 0-0 per una classifica che vede in testa la Vigor Senigallia con 34 punti poi Forza Empronese 30 Iesina e San Giustese 25 Atletico Ascoli 24 Azzurra Colli e Marina 23 Urbane 22 Atletico Gallo 21 Valdichienti Montefano Biagionazzur 20 Urbino 19 Porto Santerpidio e Fabriano Cerreto 17 Grotta Mare 11 Chiude il Servigliano con 8 punti ma proseguiamo con i servizi di Serie D e andiamo a vedere l'interessante Matese Porto D'Ascoli vediamo L'Auto Noleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine la nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini in nove posti Autonoleggio Alidama Qualità e assistenza nell'autonoleggio E si parte al via Matese-Porto D'Ascoli divertiamoci Galesio conclusione da lontanissimo alla battuta il numero 10 palla che impatta sulla barriera in questo corner parte Tribelli la palla che sfila Galesio manca l'appuntamento con la sfera Tribelli arriva la chiusura Fabiano con la conclusione di prima intenzione arriva la conclusione da lontanissimo di L'Angellotti col Mancino per Tribelli uno contro uno con l'avversario prova a passare il numero 7 cross al centro la sfera che però esce il Matese che ora occupa stabilmente la metà campo avversaria L'Angellotti con la conclusione dalla distanza alta sopra la traversa ottima l'incursione in aria da parte del Porto D'Ascoli che va vicinissimo alla rete dell'1-0 ancora il Porto D'Ascoli con la conclusione da parte di Petricci poi sfera allontanata si fa vedere ancora una volta Sabatini con la rovesciata cross al centro sfera che resta lì prova a coordinarsi Napolano Galesio attento Sensi poi Galesio conclusione col destro si coordina benissimo il numero 9 Masi cross al centro Galesio di testa palla fuori di pochissimo non c'è tempo per girare verso L'Angellotti arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara il primo tempo si conclude sullo 0-0 arriva ora il fischio del direttore di gara si riparte lotta col fisico gira benissimo verso Tribelli conclusione dal limite dell'aria molto alta sulla traversa Fabiano Fabiano va col sinistro conclusione sporcata altro corner cross al centro sponda aerea arriva la rete non si alza la bandierina cosa no viene assegnato il gol quindi al porto d'Ascoli che non è in posizione irregolare L'Angellotti cross al centro testa a vuoto Iannetta si coordina per la conclusione che viene deviata però da un difensore avversario attenzione però a questa azione del Matese contro i belli che va al centro Galesio atterrato non c'è nulla secondo il direttore di gara cross al centro Galesio la sfera resta lì recriminano un tocco col braccio rigore Matese rigore per il Matese che ha l'opportunità di pareggiare c'è stato un tocco col braccio parata sulla ribattuta si avventa il numero 9 che sbaglia il rigore ma poi riesce comunque a realizzare la rete del pareggio arriva l'esultanza verso i tifosi da parte del numero 9 che va a segno all'errore in difesa da parte del Matese Spagna in era di rigore arriva alla conclusione c'è una cosa da ridire al guardaline cross al centro proprio in direzione di Napoletano stacca di testa appunto quanto accaduto precedentemente ora attenzione perché ancora una volta Galesio è atterrato in aria e questo è un altro un altro episodio che farà discutere tantissimo davvero tantissimo che può appoggiare per Galesio va invece da solo il numero 19 conclusione da lontanissimo Lotti cross al centro sul secondo palo Galesio colpo di testa al centro a cercare Napoletano a cercare del vecchio che spizza di testa al centro Galesio arriva sulla sfera conclusione col sinistro fuori di pochissimo qui Galesio mostra una tecnica invidiabile destro-sistro per lui non fa differenza davvero palla quasi nel sette arriva poi il triplice fischio da parte del direttore di gara Matese 1 Porto d'Ascoli 1 termina con un pareggio Cari amici cari amiche delle Marche del Pallone buonasera ben trovati e benvenuti a questa seconda parte del nostro programma che accade avviene regolarmente in diretta talmente in diretta che vi do immediatamente subitaneamente istantaneamente cosa vi do che risultati vi do perché non giocano nessuno però vi posso dare il risultato quasi in diretta perché è terminata da poco di uno dei quarti di finale della Coppa d'Africa perché si è giocato Senegal contro Guinea Equatoriale ha vinto il Senegal per 3 a 1 con le reti di Giedu Cuiate e Sar e per la Guinea rete di Ruila quindi questo per dimostrarvi che siamo perfettamente in diretta poi vi darò se c'è tempo anche un aneddoto su Sheik Cuiate che è uno degli autori delle reti del Senegal veniamo a noi alla giornata odierna e direi finalmente 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 sì finalmente stiamo tornando quasi a normalità finalmente si torna a giocare in realtà già la settimana scorsa si era giocato il recupero di campionato di eccellenza ovvero Biagio Marina terminata 2 a 1 per la Biagio però oggi ci sono stati due eventi principali per quanto riguarda il campionato di eccellenza che ci riportano in un connotato di normalità il primo forse diciamo il più importante ma perché il più importante perché si assegnava oggi il primo trofeo stagionale ovvero la Coppa Italia di eccellenza oggi finale di Coppa Italia di eccellenza tra la Forza Empornese che era detentrice del torneo della Coppa Italia di eccellenza era già vincitrice che l'ultima edizione si era giocata due anni fa ve lo ricordate perché lo scorso anno tutto fermo causa Covid la Coppa Italia invece due anni fa aveva vinto in finale contro il Porto d'Ascoli oggi da detentrice affrontava una gli inglesi dicono newbie una novità assoluta una primizia ovvero era l'ambizioso io direi e competitivo Atletico Ascoli si è giocato oggi pomeriggio ore 15 in un pomeriggio assolato con una bella cornice pubblico al Bianchelli stadio Bianchelli di Seniegaglia come è andata a finire non sono bastati i 90 minuti non sono bastati i 120 minuti con i tempi supplementari sono dovuti tirare 8 rigori affinché si potesse decretare la vincitrice della Coppa Italia di eccellenza versione 2021-2022 che è andata guarda caso sempre alla Forza Empronese quindi intanto complimenti a tutte e due le squadre ho già sentito entrambi i direttori sportivi ovvero Meschini del Fossombrone e Marzetti del Atletico Ascoli ho fatto entrambi i complimenti perché quando le squadre arrivano ai 90 minuti ai 120 in parità insomma i complimenti vanno a entrambi poi questa volta quasi un un contrapasso dantesco ma al contrario perché tante volte i rigori sono stati fatali alla Forza Empronese quanto stavolta invece sono stati fortunati e prosperi appunto per la Forza Empronese comunque complimenti anche all'Atletico Ascoli che ha giocato un'ottima partita tra poco tra l'altro vedremo il servizio questo era il primo avvenimento principale il secondo avvenimento principale che ci fa ritornare piano piano il sapore l'odore il suono della normalità è che oggi si sono giocati quasi tutti i recuperi di campionate delle partite che erano state rimandate nelle settimane scorse causa Covid che partite si sono giocate allora si è giocato Marina Iesina terminata 0-0 con dato statistico il Marina non vince da 10 partite poi si è giocato Montefano Fabriano Cerretto 0-1 ha vinto il Fabriano Cerretto gol dell'ex Tolentinate Tizzi altro esplorato esterno è quello dell'Urbino che è andato a vincere a Monte San Giusto mi sembra che gioca contro il Val di Chienti Ponte ha espognato il campo di Villa San Filippo per la verità del Val di Chienti Ponte per 1-0 gol di De Angelis vedremo il servizio anche di questa partita vedremo anche il bel gol di De Angelis Urbino che con la cura Ceccarini ha vinto le ultime 5 partite su 7 e invece Val di Chienti Ponte che da quando era arrivato Bolzan era imbattuto invece oggi subisce la prima sconfitta poi l'altra partita che si è giocata era un forse anche una sorpresa perché il San Marco Servigliano ha vinto 1-0 contro la Biagio Nazaro che vi ho detto che la settimana scorsa aveva vinto 2-1 con il Marino stavolta il giovanissimo San Marco Servigliano perché ho visto la formazione giocavano tutti 2002 2003 2004 anche ha vinto 1-0 contro la Biagio Nazaro gol di Matteo Biondi questi sono i dati principali li scevereremo li analizzeremo li scopriremo con il Lanternino con gli ospiti che sono rimasti qua con noi grazie gentilmente con vicino a me c'è Federico Gagliardini portierone del Monte Giorgio ma anche esperto di eccellenza perché ci ha giocato in eccellenza e con un esperto di categorie superiori ma che sa e conosce molto bene anche il calcio di eccellenza ovvero il dirigente direttore Alessandro Cossu chiaramente rimasta con noi Sara Santacchi che forse ci vorrà dire qualcosa un detto un moto un proverbio circa il fossombrone il detto era diciamo chi di spada ferisce di spada perisce qui come potremmo dire per il fossombrone chi di rigore ferisce perisce di rigore e ferisce in questo caso cioè il fossombrone ha ferito l'atletico Ascoli con i rigori esattamente per l'appunto per l'appunto grazie di questo copyright di questo appunto proverbio diciamo rivisto rivisto e corretto allora veniamo a noi Federico allora intanto ho fatto un pastone di questa giornata del campionato di eccellenza poi domenica prossima ne parleremo perché ricomincerà il girone di ritorno però finalmente come ho già detto si ritorna un po' alla normalità dopo tanti rinvii dopo un mese che questo campionato era stato fermo si doveva ricominciare già la settimana scorsa il campionato poi è slittato di due settimane ricomincerà appunto il 6 di febbraio finalmente si riassapora un po' il clima della normalità era ora no? Sì questa sicuramente è la cosa più importante ci auguriamo tutti che ecco ora non ci saranno d'ora in avanti ulteriori stop che si possa filare liscio fino a maggio con una speranza di normalità ecco certo Alessandro delle volte diciamo che la normalità fa rima con noia in questo caso beata normalità finalmente no? assolutamente sì assolutamente sì era ora di poter riprendere oggi abbiamo visto cosa vuol dire nella finale durante la finale stare fermi così tanto tempo con giocatori che già a tre quarti di partita senza i tempi supplementari accusavano accusavano dolori alle gambe accusavano crampi questa è la differenza che fa stare tanto tempo fermi insomma ecco è un peccato perché in una finale magari ecco sarebbe stata ancora più bella di quello che è stata per quanto è stata una bella partita e si è fatta in un periodo in cui i campionati erano ancora in svolgimento insomma ecco Federico è intanto finale organizzata dal comitato regionale Marche che appunto ha consegnato oggi anche la coppa anzi a tal proposito ho già contattato la forza impornese che sarà ospite nei nostri studi prossima domenica con tanto di coppone di coppa Italia dopo vi dirò quali sono le prossime tappe che dovrà affrontare in coppa Italia la forza impornese perché poi ve lo ricordo magari non l'ho detto e chiedo scusa ma recupero in tempo la vincitrice della coppa Italia di eccellenza chiaramente a livello nazionale avrà un posto di diritto nella prossima serie D quindi in bocca anzi prima di tutto complimenti al forza ombrone ma in bocca al lupo al forza ombrone affinché questo percorso che lo porterà fuori delle marche a giocare contro le altre squadre vincitrici della coppa Italia e delle altre regioni che possa essere veramente come ho già detto prima prospero fortunato perché in fondo se lo meritano perché Alessandro ti ricordi lo scorso anno la forza impornese perse lo spareggio playoff contro il Porto d'Ascoli sbagliando un rigore tra l'altro e poi vinse il Porto d'Ascoli ma al di là di quello che fece l'anno scorso che diciamo è sotto gli occhi di tutti la forza impornese se lo merita perché ormai ha buttato ha messo le basi su questo progetto da tre forse anche quattro anni sta programmando molto bene sta senza grandissime spese ha un allenatore bravissimo fucili che 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 stimo e comunque sia ha un pur vendendo i giocatori Paradisi l'ha dato al Bigor Senigallia quest'anno nonostante ciò perde magari qualche pezzo e lo rimpiazza con giocatori che magari l'anno precedente giocavano in categoria inferiore però se lo merita perché sta lavorando in una maniera importante da quattro anni non direi guardare solo il risultato che non ha ottenuto l'anno scorso perché ha fatto una finale e probabilmente se l'è giocata a viso aperto non probabilmente io c'ero e l'ho vista quindi poi dopo sono quelle partite come quella di oggi che poi dopo vai a giocare vai magari a tirare il rigore e la vince il rigore però non ci dimentichiamo che oggi il portiere dell'Atletico Ascoli avrà fatto quattro cinque parate veramente strepitose quindi aveva buttato le basi per poter vincere questa partita senti però da esperto conoscitore anzi anche esperto e profondo conoscitore del calcio anche di questi livelli una volta i latini dicevano va evictis cioè guai ai vinti qui in questo caso invece più che onore delle armi ai vinti cioè l'Atletico Ascoli che ha disputato una bella partita ha una bella squadra messa in campo bene da mister Giandomenico ha una società ambiziosa che nel giro di due o tre anni poi ha come obiettivo la categoria superiore e io penso che se continua così se riesce a oliare qualche meccanismo e far inserire anche i nuovi arrivati può dire la sua anche in campionato magari per i playoff però assolutamente se ti devo dire la verità se tu prendi gli organici del Fossombrone e dell'Atletico Ascoli io ti posso dire che a livello di organici ha dei giocatori molto più importanti l'Atletico Ascoli Fossombrone dalla sua ha questa progettualità di quattro anni e quindi dico che una squadra collaudata cambiando delle pedine riesce a portare avanti un progetto da tanti anni insomma Sara ecco proseguendo sempre su quest'analisi l'Atletico Ascoli non ha nascosto fin dall'inizio della stagione comunque le sue ambizioni la sconfitta nella Coppa comunque chiude definitivamente una strada in campionato è un po' indietro quindi è molto difficile riuscire a recuperare la vigor Sì prego Alessandro Sì io direi che è difficile per tutti secondo me recuperare la vigor però può essere un percorso quello di arrivare ai playoff giocarsi in secondo posto per poi andarsi a giocare agli spareggi per arrivare a livello nazionale però non perdiamo di vista il fatto che se io ho detto che il Fossombrone è quattro anni che ha questa progettualità non dobbiamo dimenticare che l'Atletico Ascoli viene dalla promozione fatta due anni fa quindi probabilmente dovrà un attimo lavorare maturare il tempo lavorare su questo progetto e so anche che a livello di potenzialità l'Atletico Ascoli non c'è niente da invidiare alle società di serie D il problema è che non si può devi arrivare a queste categorie cercando di vincere i campionati e non sempre con i nomi vinci i campionati deve avere un certo progetto per portarti a quella categoria però l'Atletico Ascoli io credo che abbia all'interno di questo campionato forse abbia le risorse più importanti di tutte le altre società bene allora era il primo trofeo che si assegnava a livello stagionale per quanto riguarda l'eccellenza ci vediamo il super servizio della finale di Coppa Italia di eccellenza tra Forza Empornese e Atletico Ascoli Atletico Ascoli in splendido completino maglia orange stile stile Olanda molto bello molto significativo però alla fine ha vinto la Forza Empornese ha vinto 4-2 ai calci di rigore quindi dopo ben 120 minuti di partita sono stati fortunati i rigori per la Forza Empornese letali oppure meno fortunati per l'Atletico Ascoli quindi in bocca al lupo al Fossombrone per la vittoria e in bocca al lupo anche all'Atletico Ascoli per riprendere il proprio cammino in campionato super servizio di Sergio Brizzi che ha anche fatto la telecronica in diretta oggi pomeriggio della partita chiaramente sui nostri schemi su TVRS Canale 11 la casa del calcio marchigiano e insieme a Gianluca Dottori che è il presidente dell'associazione italiana arbitri sezione delle Marche super servizio poi siamo di nuovo qua perché dobbiamo dire un sacco di cose di eccellenza di calcio mercato e tante altre cose adesso però Forza Empornese contro Atletico Ascoli ci sono voluti calci di rigore per decidere chi tra Forza Empornese e Atletico Ascoli potesse portare a casa la Coppa Italia Marche della stagione 2021-2022 la spuntata la squadra di Fucili che si aggiudica il trofeo per la seconda volta consecutiva e raggiunge a quota quattro successi la Biagio Nazaro diventando insieme alla formazione Biagiotta la compagine con il maggior numero di vittorie nella competizione il rientro in campo a vola sosta forzata per gli sviluppi della pandemia lasciava molte incognite sulle condizioni delle due squadre soprattutto sotto il punto di vista Atletico invece la gara si è giocata sin dalle prime battute a ritmi molto elevate con Forza Empornese e Atletico Ascoli che si sono date battaglia per tutti i 120 minuti senza risparmiarsi per questa gara Fucili era costretto a rinunciare a Marongiu e Zingaretti oltre a Urso mentre all'altra parte Gian Domenico doveva fare i conti con tante assenze nel pacchetto arretrato e ha dovuto ridisegnare la propria retroguardia ma entrambi i tecnici non hanno rinunciato alle proprie idee di gioco proponendo i moduli collaudati direzione di gara affidata a Salvatori di Macerata parte meglio l'Atletico Ascoli che inizia subito a spingere e si rende pericolosa già al terzo Mariani si incunea sulla destra e prova il destro in area di rigore che finisce però sull'esterno della rete la Forza Empornese non si lascia intimidire prova a prendere in mano le eredini del gioco l'Atletico però si difende con ordine rischiando poco e torna a pungere al ventesimo Giovannini trova spazio sulla trequarti avanza qualche metro e calcia col destro altra chance per la formazione Ascolata al ventiseiesimo quando Galli devia sotto misura una sponda di Mariani con il pallone che termina sul fondo di poco la Forza Empornese prova a creare qualche pericolo ma al di là di alcune incursioni di Conti viene arginata con efficacia dalla difesa in maglia arancione che fino all'intervallo riesce a tenere lontani i rischi per Albertini nella ripresa è la squadra di Fucili a partire con maggior convinzione dopo i primi tentativi senza esito riesce a volgere la situazione a proprio favore al cinquantacinquesimo Conti accelera verso l'area di rigore viene fermato fallosamente a Veciarello già ammonito Salvatori non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso lasciando l'Atletico in dieci Gian Domenico risistema la squadra stringendo al centro Gabrielli e Mariani Gibellieri senza rinunciare a colpire di rimessa con l'uomo in più però i bianco celesti riescono a guadagnare campo e trovano il modo di andare vicini al gol al sessantanovesimo con Rovinelli che colpisce di testa su angolo da destra ma trova uno straordinario Albertini a negargli la rete al settantesimo Gian Domenico richiama Giovannini per inserire Petrucci mentre Fucili sostituisce Cecchini con Barattini e proprio il neo entrato va vicino al vantaggio al settantottesimo tentando la conclusione sul primo palo ma trova l'estremo difensore Ascolano attento e pronto alla deviazione sul montante per evitare la rete ancora decisivo il portiere dell'Atletico cinque minuti più tardi quando non si lascia sorprendere ed evita l'autorete del proprio compagno Nunez con un'altra parata difficile dopo la deviazione su punizione di Procacci da sinistra la partita di Petrucci dura meno di un quarto d'ora a causa di un nuovo fastidio fisico che lo costringe a lasciare il posto a Raffaello la gara scurre senza altri sussulti fino al novantesimo e nonostante i sei minuti di recupero accordati da Salvatori il punteggio non si schioda dallo 0 a 0 nei tempi supplementari le due squadre seppur stanche non rinunciano a provare a vincere il match e ad andarci più vicini sono ancora i biancazzurri al quarto del secondo tempo supplementare Barattini controlla bene in area ma poi non trova lo spazio per il tiro e preferisce appoggiare Pagliaric che cerca il palo lontano Albertini respinge ancora sulla palla si fionda la corrente Palazzi che però da due passi spedisce incredibilmente alto ci crede la forza empronese che vista la tradizione negativa dal dischetto almeno in campionato vorrebbe chiuderla prima ma al 114esimo si ristabilisce la parità numerica perché Camilloni già molito stende Mariani fermando la ripartenza scolana anche in questo caso Salvatori non ha esitazioni e manda l'esterno difensivo bianco celeste negli spogliatoi l'atletico Ascoli con l'inesauribile Mariani prova a scardinare prima il 120esimo la difesa forza empronese ma nonostante gli sforzi il punteggio non cambia e dunque la sfida si decide ai calci di rigore inizia la formazione scolana che va a segno con Raffaello imitato poco dopo da Conti che firma l'1-1 poi è la volta di Nunez che è il primo a fallire il tiro al dischetto calciando con forza ma la palla scheggia la traversa e poi finisce sul fondo resta freddo invece Riccardo Pandolfi che spiazza Albertini per il 2-1 decisivo l'errore di Nicolosi che si lascia parare il tiro da Marco Antonini con un sinistro non irresistibile mentre Pagliari angola bene e supera Albertini per il 3-1 tocca poi a Maliani G. Bellieri realizzare il 3-2 ma è tutto inutile perché Procacci non sbaglia e regala alla forza empronese la Coppa Italia al termine del match ecco le impressioni di Gianluca Dottori che ha commentato con noi la gara abbiamo seguito con Gianluca Dottori gli sviluppi di questa finale tra forza empronese ed atletico Ascoli che si è conclusa da pochi istanti con la vittoria e calci di rigore e la forza empronese Gianluca comunque una partita bella equilibrata e avvincente sì come detto in telecronaca due belle squadre faccio i complimenti ai due allenatori perché l'hanno preparata bene e anche le ripeto ho fatto i complimenti anche a Teli Vascoli che è uscito perdente ma penso che è una partita che poteva solamente svilupparsi e decidersi ai calci di rigore ripeto due belle squadre giocata bene un'ottima partita leggiamo ancora qualche messaggio e poi anche qualche sms non solo quelli giunti su whatsapp grande Leo Santoro un saluto dal press chiediamo di palesarsi cioè chi è che ha scritto chi è questo press che ha scritto il messaggio al nostro ospite Leonardo Santoro e poi il problema è che affermo non leggiamo più campionati così tribolati è sempre una sofferenza sveglia poi ancora grazie ai dirigenti attuali ma Iesi vuole di più volevo fare i complimenti ai tifosi Iesini sono stati gentilissimi educati tifando incessantemente per 95 minuti la propria squadra senza offendere tifosi e squadra avversaria saluti Massimo Di Marina e poi ancora Fossombrone e Atletico Ascoli quando l'idea batte il talento va bene sono dei bei messaggi belli anche quello del tifoso di Marina che ha fatto i complimenti ai tifosi della Iesina perché poi siamo tutte squadre della stessa regione per quello anche prima ho fatto i complimenti a tutte e due le squadre la Fossombronese e l'Atletico Ascoli proprio perché siamo tutti corregionali tutti della stessa regione quindi in teoria dobbiamo essere è vero che le Marche sono l'unica regione al plurale però dobbiamo cercare di fare anche un po' più sistema un po' più di fratellanza sono rimasti con noi per parlare di eccellenza Federico Gagliardini portierone del Montegiorgio e Alessandro Cossu dirigente e direttore di calcio intanto scusi il messaggio era per il tuo collega Leonardo Santoro firmato il press ma chi l'ha mandato il presidente Belleggia Zeno Cesetti no perché il press rimane un po' cos'è un soprannome che ha un giocatore o proprio il press con la P maiuscola ma non saprei qui dobbiamo dire tutto non saprei ora speriamo che si faccia riconoscere tramite un altro messaggio e così lo scopriamo va bene allora sì come rinnovo l'invito che ha fatto Sara a Palesarti caro press allora invece volevo dire sulla Coppa Italia di eccellenza abbiamo visto adesso il servizio guardiamo un occhio guardiamo un attimo al futuro quali sono i prossimi step della Coppa Italia questa volta però a livello nazionale allora come di consueto le marche sono abbinate con l'Umbria quindi il Fossombrone si sfiderà nelle date del 23 febbraio nelle marche a Fossombrone e il 2 marzo di ritorno in trasferta contro la vincitrice della Coppa Italia dell'Umbria che è l'Angelana 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 è la squadra di Santa Maria degli Angeli di Assisi ai piedi di Assisi tra l'altro è una squadra che sì ha vinto la Coppa Italia pensate curiosità era era la quarta volta che l'Angelana arrivava in finale di Coppa Italia perché c'era arrivata nel 2014 nel 2016 e nel 2017 aveva sempre perso perché aveva perso prima con il gruppo Castello poi con il Ventinella e poi nel 2017 con il Villapiaggio alla quarta volta gli è andato bene perché ha vinto la Coppa Italia seppure in campionato un po' traballante perché oggi ha perso 2 a 1 contro la Narnese e lotta per non retrocedere campionato di eccellenza Umbro dominato dalla Orvietana che ha 53 punti e ha praticamente un piede già in serie D mi eri dimenticato prima di dirvi che nell'otto delle squadre che oggi sono scese in campo per i recuperi di campionato di partite saltate causa Covid ce n'è stata una che è stata rinviata ulteriormente per Covid quindi il rinvio del rinvio per Covid che è la partita tra Porto Sant'Elpidio e San Giustese che in settimana il Comitato Regionale ci comunicherà quando verrà recuperata per quanto riguarda poi il Comitato Regionale Marche il Presidente Ivo Panichi ha parlato in settimana quindi cerchiamo anche noi come trasmissione dargli non è che ha bisogno che noi dobbiamo dar voce al Presidente però di prendere anche qualche spunto di ciò che ha detto perché ha sottolineato tre punti il primo dei quali è il più importante a cercare di dare un po' non voglio dire un ultimatum ma un imprimatur sì ad andare avanti dal prossimo 6 febbraio quando ricominceranno tutti i campionati dalla diciamo dall'eccellenza in giù quindi promozione prima seconda categoria anche di calcio a 5 peraltro possibilmente di non fermarsi più tranne ovviamente casi eccezionali legati a Covid ha fatto anche presente che magari erano giunte delle critiche al Comitato per determinate scelte ma insomma ha tenuto a specificare secondo me giustamente che ci sono delle norme nazionali sovraordinate a quelle del Comitato Regionale Marche che appunto il Comitato Regionale Marche è tenuto gerarchicamente a rispettare anzi anche per un criterio di competenza non può proprio nemmeno legiferare per cui ecco ha tenuto a mettere un po' i puntini sulle i come si suol dire riprendiamo a parlare questa volta tecnicamente di gioco di campionato di eccellenza le partite che sono svolte oggi vuoi dire qualcosa Federico 1-0-0 tra Marina e Jesina Marina come ho detto prima a cui manca la vittoria da parecchie partite mi sembra da 10 partite la Jesina che come ha detto i tifosi magari vorrebbero un po' di più vorrebbero quello spunto un po' decisivo la Biagio Nazaro che perde contro l'ultima in classifica ma allo stesso tempo l'ultima in classifica il San Marco Servigliano che dimostra ancora di avere la garra di avere la grinta per rimanere in campionato e poi due vittorie esterne l'Urbino e il Fabriano Cerreto che seppur inguaiate nella zona di retrocessione dimostrano che esse vogliono lottare fino alla fine per salvarsi per mantenere la categoria ma sicuramente direi un buon punto per il Marina che aveva avuto comunque un inizio di stagione eccezionale e anche se non vince da 5 partite comunque credo che fare un punto addirittura 10 credo scusa da 10 partite un punto a Jesis credo che sia un ottimo risultato sicuramente la vittoria dell'Urbino e del Servigliano ecco sono un po' delle sorprese il Val di Chienti che stava attraversando un ottimo periodo da quando è arrivato Bolzan ha avuto una sconfitta diciamo inaspettata come la sconfitta della Biagio che sicuramente era andata a Servigliano per dare continuità alla vittoria di Marina e poi mi dicevi l'altra partita l'altra partita era il Montefano Fabriano Cerreto che ha cambiato la redattore adesso c'è già Cometi il luogo di Pazzaglia ha vinto le ultime due due partite sicuro le ultime due non so se ne ha vinto addirittura tre di fila due sicuro anche il Fabriano comunque che era rimasta un po' indietro ha fatto questi risultati che gli hanno permesso di riattaccarsi un po' al gruppo che lotta per salvarsi sì Alessandro anche a te un commento sui recuperi odierni di campionato questi risultati ti hanno un po' stupito ti hanno colpito no perché ti dico io il mio pensiero è che riniziare dopo dopo che sei stato fermo lo ripeto anche per il discorso della finale riniziare dopo che sei stato fermo c'è qualche piccola incognita e devo essere sincero adesso sono state ho guardato ho visto un attimino i risultati tabellini sono state invece tutte partite vere perché anche la Biaggio che perde a San Marco Servigliano non perché ha fatto una prestazione meno buona di altre volte ma perché ha sbagliato un rigore ha preso tre pali esatto il Marina non è vero che noi diciamo quante partite che non fa un risultato positivo ma non ci dimentichiamo che il Marina è stata la società che ha iniziato per prima col Covid avendone 11 o 12 e io ricordo cosa vuol dire dall'anno scorso a Porto Sant'Elpidio avere 12 giocatori che hanno il Covid quindi hanno tutti una giustificazione la Iesina è vero che sicuramente si vuole di più però io invece devo fargli assolutamente complimenti perché stanno facendo una stagione importante cercando di valorizzare i giocatori del territorio in più hanno questa punta Matteo Perri che stava con noi l'anno scorso che conosco benissimo e veramente stanno risistemando tutta la situazione e il mister sta facendo un lavoro strepitoso perché Marco insomma ha dei valori non solo tecnici ma anche umani e quindi complimenti per tutto il lavoro che stanno facendo sia all'interno della società che sul campo e oggi riprendevano quindi ci sta che vai a giocare a Marina che recupera tutti quanti i giocatori sono due squadre che sono squadre importanti insomma però già dalla prossima noi probabilmente incomincieremo a vedere di nuovo il campionato vero perché la prima partita quando rientri qualche problematica ce l'ha insomma una è stata ha avuto qualche giocatore in meno durante gli allenamenti e le problematiche ci sono sicuramente però insomma dai è un campionato che rispecchia i valori tecnici la Vigor Senigallia che è un po' uno dice una piazza importante no la Vigor Senigallia è un po' il fossombrone cioè sta programmando da tanti anni dal momento in cui è ripartita dalla prima categoria perché non dimentichiamoci che questa è una società che è ripartita dalla prima categoria con con l'altra società e sta programmando a mi pare 11 giocatori che sono del settore giovanile del sotterro giovanile e poi a Senigallia sono stato quindi insomma conosco bene la realtà e quindi ecco bisogna dargli atto che stanno facendo non solo un campionato ma un lavoro veramente importantissimo ha riportato giocatori come i marini che sono di Senigallia all'interno del gruppo sicuramente bravi e in più ci sono quelle società tipo la San Giustese che hanno un organico importante l'Urbino che secondo me risalirà perché comunque sia Ceccarini è un nome esperto e sicuramente farà risalire l'Atletico Ascoli che lo troveremo lì adesso è tutto da giocare questo campionato perché comunque sia i punti tra i 20 dei play out e i 25 che poi sono 24 perché è cortissima quindi per dire una fesseria anche il Porto Sant'Elpidio che ha 17 punti può ancora aspirare ad arrivare esatto però è anche vero che quando è corta ti puoi anche ritrovare nei play out in un attimo è un bel campionato per cui attenzione per cui attenzione massima concentrazione massima preparazione e soprattutto massima determinazione anche a te Sara che hai messaggi domande curiosità e quant'altro sì qualche messaggio domenica si ricomincia forza vigor poi la società della Iesina deve fare uno sforzo e regalare ai suoi tifosi la serie D da subito ancora per il direttore Cossu un po' ho già anticipato la risposta lei che l'anno scorso lo ha visto all'opera Porto Sant'Elpidio cosa può dire del bomber perry della Iesina cosa può dire non dico la verità però dico che comunque sia qualcosa che si avvicina no è inutile che posso negare che siccome io sono integrato all'interno della società perché li conosco e vivo a Iesina 45 anni qualcuno mi ha anche chiesto prima di prenderlo quindi insomma che vi devo dire Matteo l'ho preso io l'anno scorso a Porto Sant'Elpidio perché è arrivato a stagione inoltrata ma auguratamente ha avuto qualche infortunio quindi magari non siamo riusciti a vederlo all'opera di continuo ma per quelle partite che abbiamo visto all'opera ha fatto delle cose importantissime quindi io lo stimo tantissimo sono convinto che può fare lui sta facendo benissimo a Iesina ma lui può fare ancora di più quindi è una domanda che oltre a questo tifoso il nostro telespettatore le hanno posto anche i dirigenti della Iesina mettiamola in questo modo prima di acquistarlo ma è normale nel mondo del calcio ci chiamiamo tutti per avere non delle referenze per sapere com'è come ragazzo tecnicamente com'è come si allena è inutile ci nascondiamo è inutile credo che sia anche giusto stiamo lavorando ma c'è collaborazione c'è condivisione anche io molte delle informazioni che vi dicono non sono tutte farine del mio sacro perché anch'io mi confronto anche oggi con ad esempio Giuseppe Moreschini quasi in diretta prima di entrare qua in trasmissione anche con Andrea Busiello della realizzazione di UTI cerchiamo di fare anche sintesi e di arricchirci l'uno con l'altro si è arricchito parecchio il Fabriano Ceretto che oggi con questi preziosi tre punti in trasferta a Montefano ha vinto 1-0 fa un balzo in classifica a 17 punti quindi adesso respira un'aria un po' più pulito e sta in una posizione decisamente più comoda rispetto a prima per quanto riguarda la zona salvezza ci vediamo il servizio poi siamo di nuovo qua una pizza che non si scorda il piacere di ballare il luogo giusto per ritrovarsi con gli amici è lo chalet I Due Re ristorante e pizzeria a Civitanova Marche un compleanno la laurea o semplicemente la voglia di stare insieme in un ambiente che fa spettacolo I Due Re ristorante e pizzeria lungomare Piermanni Civitanova Marche il Fabriano firma un pesantissimo blitz esterno sul campo del Montefano i Gartai vincono di misura con una rete in apertura di tizzi e si rilanciano di prepotenza per la salvezza diretta il Montefano mastica Amaro per la terza sconfitta consecutiva e rimane indischiato nelle zone basse della classifica non bastano i viole e numerosi tentativi verso la porta di Santini il Fabriano si difende con ordine senza sbavature portando a casa i tre punti pronti via ecco Giago partita al sesto buona triangolazione al limite tra i giocatori ospiti che manda il tiro tizzi l'esterno offensivo lascia partire un violento destro che si inzacca imparabilmente sul primo balo e sotto il 7 il Montefano risponde al diciannovesimo con la girata di destro di Dell'Acura sul cross di Bicini fuori di poco al ventunesimo la punizione di Monaco colpisce la barriera e poco dopo Alla calcia di prima col Mancino fuori ancora punizione per il Montefano al ventiseiesimo questa volta che Riota si fa murare la conclusione a cavallo della Mozzora ci prova prima Carotti da lontanissimo sfera fuori verso il 7 poi Palmucci carica il destro che si spegne a lato tentativi dei Viola sono per la maggior parte da piazzato o tiri dal limite come quello di Alla al 34esimo che c'entra lo specchio ma il tiro è centrale e facile preda di Santini la vera occasione il Montefano lo costruisce al 37esimo quando Bonacci al limite appoggia per il mancino di prima di Cariota che lambisce il palo alla sinistra del portiere negli spogliadoi col vantaggio del Fabriano la ripresa si apre con una punizione indiretta in favore del Fabriano nei pressi dell'area piccola del Montefano del Sante appena entrato calcia sulla barriera da ottima posizione al ventesimo invece da punizione Camilloni anche gli appena fatti il suo ingresso in campo calcia a giro dallo spicolo dell'area conclusione alta verso il 7 5 minuti dopo Palmucci prepara il destro dai 20 metri tiro potente ma alto sulla porta dei Santini il Fabriano ormai vada a difendersi sulla pressione continua al Montefano che cerca in tutti i modi di scardinare la dentro guardia ospite alla mezz'ora è il turno di Zannini che recupera una palla sporca al limite e lascia partire il Mancino che viene degliato in angolo subito dopo Palmucci al limite imbuga la palla alta per Camilloni che da posizione defilata calcia il volo di sinistro chiamando Santini al miracolo il Fabriano gestisce fino alla fine e brinda per il terzo successo consecutivo mentre il Montefano incappa nel terzo cappato di fila che condanna e viola in piena zona play out nel post gara le impressioni a caldo dei due allenatori Giacometti per il Fabriano e Menghini per il Montefano il suo Fabriano Cereddo trova una vittoria importantissima quest'oggi a Montefano un diretto scontro per la salvezza una partita compatta di sacrificio dei vostri dove praticamente avete concesso soltanto di dire a fuori il Montefano sì sicuramente questa era la partita che dovevamo fare potevamo uscire con un risultato positivo solo grazie a tanta abnegazione tanta grinta tanta corsa da parte di tutti e così è stato perché comunque il Montefano è una squadra che davanti ha molta qualità e quindi c'era bisogno di una partita molto attenta da parte nostra il suo arrivo ha fatto benissimo se non sbaglio tre partite e altre tante vittorie come è scattata questa molla per intraprendere il percorso giusto ma guarda quando ci sono dei cambi tendenzialmente si crea sempre un po' quella scintilla quella voglia di rivalza da parte dei ragazzi da parte del gruppo io devo dire che ho trovato dei ragazzi sicuramente molto molto appassionati a quello che fanno e quindi nonostante ecco le varie problematiche con il covid siamo riusciti sempre ad allenarci bene e poi sai a volte ci vuole anche un pizzico di fortuna per vincere o perdere una partita mister Menghini su Montefano cade contro il Fabriano Cerrito in un importante scontro diretto per la salvezza cosa pensi sia mancato ai vostri quest'oggi per avere il risultato pieno è mancato come in questo campionato succede i dettagli nel senso che è una partita che forse i punti non avremmo dovuto quanto meno pareggiare quanto meno dico perché se andiamo a vedere il possesso loro hanno fatto un tiro un gol si sono difesi bene hanno fatto quello che deve fare una squadra che si deve salvare a noi ci è mancato un pochino di nerbo un pochino di cattiveria specie negli ultimi 20 metri altrimenti i ragazzi hanno giocato hanno provato a fare la partita per lunghi tratti secondo me ci sono riusciti pure però negli ultimi 20 metri abbiamo peccato un po' di cattiveria di cinismo e alla prima occasione nell'eccellenza se sbagli ti castigano è successo quest'oggi però non posso ricriminare più di tanto i ragazzi dico solamente di non abbassare la testa di continuare ad allenarsi come stanno facendo specie ultimamente i risultati poi con questo spirito con questa voglia credo che arriveranno ci vuole pazienza il campionato è molto molto difficile di fatto oggi si chiude il girone d'andata avete affrontato tutte le squadre finora si è soddisfatto del vostro cammino o si poteva fare ancora meglio ma nel calcio si può fare sempre meglio quindi anche noi avremmo potuto fare meglio sia oggi che in certe altre circostanze però tutto sommato credo che anche la classifica attuale dica che la posizione attuale del Monte Fano rispecchia all'incirca quello che è il suo potenziale quindi noi sapevamo che dovremmo sudare molto per portare la nave alla salvezza e lo dovremmo fare con con la mentalità di una provinciale proveremo a vincere tutte le partite come abbiamo fatto oggi cercando di giocare pure però dobbiamo essere più cinici più cattivi la cattiveria di una provinciale che si deve salvare noi siamo quelli dovremmo fare quello cercheremo di farlo nel migliore dei modi 22.52 eccoci di nuovo in diretta cari amici e cari amiche delle Marche nel Pallone siamo ancora qua su TVRS siamo ancora parlando siamo ancora alle Marche nel Pallone stiamo parlando di eccellenza avete visto adesso la partita del Monte Fano del Fabriano Cerreto tra poco vedremo la partita tra Valdichienti e l'Urbino la vittoria dell'Urbino per 1-0 gran gol di De Angelis siamo ancora con i nostri ospiti ovvero Federico Gagliardini portiere del Monte Giorgio ma che ha disputato diverse stagioni in eccellenza e Alessandro Costo dirigente direttore di calcio esperto di calcio però prima di tutto parola a Sara perché ci dovrebbe essere un messaggio sì c'è una piccola precisazione che è sicuramente stato frutto di una svista diciamo così Massimo Medei vicepresidente Ajac di Macerata ci scrive avete presentato Gianluca Dottori commentatore tecnico della finale di oggi della Coppa di Eccellenza come presidente regionale dell'associazione italiana Arbitri e invece è associazione italiana allenatori di calcio allenatori ma come ci salta in mente come c'è Giuliano errata corrige avevano ragione il mattino correggete gli errori è vero è vero e chiedo scusa perché la sigla insomma ajajaj può capitare siamo in diretta è bene che ti perdoniamo dai ok ma è bene anche che vengono segnalati certe certe inesattezze ci mancherebbe altro allora volevo invece guardare un attimo al futuro domenica prossima si riprende il campionato di eccellenza si riprende il campionato di eccellenza con l'inizio del girone di ritorno riposerà la San Giustese perché quest'anno Federico il campionato di eccellenza ha un numero un po' particolare sono 17 squadre quindi una squadra ovviamente si gioca una controllata quindi il numero è pari quindi se si ha uno dispari una riposa ovviamente no? ridi Sara ma è così e quindi la prossima settimana riposerà la San Giustese che ha già riposato torto collo anche questa settimana visto che per causa Covid è stato rinviato il recupero contro il Porto Sant'Elpino non l'abbiamo detto prima si riprenderà con un bel Vigor Senigallia contro Biagio Nazaro quindi un bel derby anche tra caselli dell'autostrada più o meno e anche con Forza Impornese Marina che sarà una partita molto molto interessante da vedere questo è per l'alta classifica poi cosa ti aspetti tu in questo girone di ritorno ti aspetti diverso da quello che è stato rinizia un nuovo campionato oppure i valori rimarranno quelli più o meno ma sicuramente io mi aspetto che la Vigor continui il percorso che ha avuto finora nel girone d'andata poi ecco ci sono realtà come magari il Val di Chienti che all'inizio ha avuto un inizio difficile ma da quando è arrivato Bolzan ha avuto un'ottima continuità ovvio ci si aspetta il Val di Chienti che possa rientrare quantomeno nel discorso playoff e farli magari anche da protagonista mi aspetto che comunque lì come dicevamo prima in cinque punti ci sono tantissime squadre quindi è un campionato molto molto equilibrato e chi avrà più continuità riuscirà magari a stare avere una salvezza più tranquilla e arrivare nella parte più vicina ai playoff Alessandro il girone di ritorno di eccellenza cosa cambierà se qualcosa cambierà beh il girone di ritorno probabilmente allora il girone d'andata ha definito un attimo la questione punti quindi che sono tutte ammucchiate dal lasciamo stare la prima però dalla seconda in classifica in giù ci corrono pochi punti cambierà questo che quest'anno è un anno particolare perché l'anno scorso il campionato diciamo che è stato fermo e quindi anche i giocatori soprattutto quelli di eccellenza a livello muscolare hanno qualche problemino in più quindi devi stare attento all'infortunio questo covid che comunque sia non si sa bene se ne stiamo venendo fuori se ne verremo fuori quindi questo fa la differenza negli organici delle società il campionato comunque sia è livellato per cui sarà un campionato duro sino alla fine io credo che tutte le squadre che dai 20 punti in su si potranno giocare diciamo dai 18 anche punti in su si potranno giocare l'accesso ai playoff però è anche vero che dai 24 in giù si possono anche potrebbero ritrovarsi mischiate anche nei playoff quindi un campionato difficilissimo e forse devo essere sincero nessuno se l'aspettava perché come tutti i campionati di eccellenza probabilmente ci sono meno prima donne dopo tantissimi anni nel campionato di eccellenza che era un campionato io mi ricordo dove c'erano giocatori che venivano dalla C dicendo quest'anno è un campionato dove magari ci sono dei giocatori sì ci può essere qualcuno che viene dalla C ma magari ha qualche anno in più quindi insomma è a fine è a fine carriera diciamo però è un campionato dove sicuramente sino alla fine si combatterà per 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 tutti e due le fasi playoff e playout credo che comunque sia per quanto riguarda se non ci saranno stravolgimenti la vittoria dell'eccellenza sono convinto che piano piano sarà ancora più costante la vigor quindi credo che sarà una squadra che sicuramente prenderà il via allora tra l'altro non dimentichiamoci che è stato decretato la riapertura straordinaria del calcio mercato di questa calcio mercato di riparazione di questa in questa sessione invernale è stato riaperto e terminerà il 10 di febbraio all'ora 19 quindi anche le società di eccellenza oltre a pescare dal dal bacino dei giocatori svincolati ovvero senza contratto possono ancora contrattare tra loro trasferimenti di giocatori Sara e chissà che qualcuna di queste squadre voglia rafforzarsi ecco un ultimo messaggio complimenti al Fossombrone per aver vinto le ultime due Coppa Italia d'eccellenza grazie ragazzi allora per rimanere in tema invece parliamo di calcio parliamo anche di attualità perché il 27 il 27 di gennaio è il giorno della memoria quel giorno che ricorda le sofferenze lo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale però ci sono episodi che possono essere anche collegati al calcio uno di questi esempi è quello di Massimo della Pergola Massimo della Pergola era anche nato a Trieste giornalista della Gazzetta dello Sport fu depennato dall'albo dei giornalisti perché aveva una colpa essere ebreo quindi per cercare diciamo rifugio scappò da Trieste e andò in Svizzera esattamente a Pont della Morge nel cantone Vallese e lì fu fatto diciamo prigioniere stette in un campo di concentramento ma poi nei momenti diciamo di riposo rubando un foglio di carta e una penna a un tenente sviluppò una sua idea questa sua idea si chiamava 1x2 ovvero inventò proprio il totocalcio cercava di vedere queste partite come collegare queste partite con dei simboli gli sembrava banale mettere 1,2,3 per vittoria pareggio sconfitta e anche abc come pareggio vittoria sconfitta quindi inventò questo termine 1x2 e fu così che con due soci nel 1946 fondò la Sisal che tuttora esiste all'inizio non fu un grande successo la schedina perché ne furono giocate 30.000 e fu poco il Montepremi anzi addirittura le schedine furono regalate ai barbieri che le usarono per pulire le lamette dei rasoi ma poi più tardi ebbe tutto il successo che meritò appunto anche in un periodo tremendo come quello dei campi di concentramento venne fuori massimo della pergola con l'invenzione del totocalcio questo per quanto riguarda il forse non proprio tutti sanno che perché Sara mi dice che le sanno tutti e invece forse non proprio tutti sapevano questa notizia anche forse non proprio tutti sanno che l'Urbino oggi ha espugnato il campo di Monte San Giusto di Villa San Filippo dove gioca il Valdichienti Ponte per 1-0 e quasi nessuno avrà visto il gol di De Angis ce lo vediamo insieme poi torniamo sempre diretta con Andrea adesso però Valdichienti Ponte contro Urbino 0-1 dopo oltre un mese di sospensione torna il campionato regionale di eccellenza con il recupero del 17esimo turno ultimo del girone ascendente in campo Valdichienti Ponte e Urbino inizio di marca ospite ma la prima vera occasione è del Valdichienti al 17esimo dialogo tra Fioretti e Titone l'ex San Benettese da buonissima posizione non inquadra la porta al primo assalto passa l'Urbino al 28esimo De Angelis raccoglie un pallone vagante in posizione centrale e di sinistro batte Mallozzi che prova a deviare ma in maniera non sufficiente Urbino che controlla per larga parte del secondo tempo al 34esimo la reazione delle Valdichienti Trilini da posizione decentrata prova il tiro ribaltuto però dalla difesa Ducale un minuto più tardi l'Urbino manca la clamorosa occasione per chiudere i conti dalla buona appoggia a Mainardi cross basso dalla destra per Rossi che buca completamente un pallone solo da spingere nella porta sguarnita reazione disperata della squadra di Bolsa nel finale al 44esimo Palmieri su punizione manda altro mentre nel secondo dei tre minuti di recupero Triana tra i più intraprendenti nel secondo tempo cerca la soluzione personale ma il tiro viene ribattuto vince 1-0 meritatamente l'Urbino superiore in tutti gli aspetti del gioco nel dopogara tutta la soddisfazione di un raggiante e Ceccarini e tutto lo scoramento di Bolsa che è predente dai giocatori un'assunzione di responsabilità mister Ceccarini crediamo una vittoria meritata per come avete interpretato la partita sia sul piano tattico che anche fisico e motivazionale abbiamo visto una squadra brillante e ben organizzata ti ringrazio anche secondo me abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra importante con delle individualità veramente forti noi c'eravamo preparati rispettando l'avversario la partita poi si è messa in un certo modo come speravamo siamo riusciti ad andare in vantaggio a gestire bene il risultato perché all'occasione forse più grossa il secondo tempo l'abbiamo avuta noi purtroppo non è riuscito a far gol il nostro il nostro attaccante che era emozionato perché la prima volta che gioca con noi la prima partita che fa però complessivamente credo che dopo aver fatto gol il risultato l'abbiamo gestito e portato a termine in maniera estremamente positiva noi abbiamo sofferto il fatto che abbiamo avuto diversi giocatori che hanno preso il covid quindi è stato difficile il ritorno in campo di questi ragazzi gestire il ritorno ancora ne abbiamo uno che non riesce a riprendere completamente l'attività ma credo che come noi tutte le squadre siano nella stessa condizione è un momento difficile è un momento dove è importante avere una società che crede nei ragazzi che sa gestire la situazione perché c'è il rischio di arrivare una domenica e dover cambiare al venerdì devi cambiare la situazione tattica che hai preparato mister Bolzan potevate passare in vantaggio con Titone poi avete subito il gol al primo vero assalto dell'Urbino poi è cominciata una partita tutta in salita che non siete riusciti purtroppo a raddrizzare sì io penso che la partita non è mai iniziata per noi perché oggi sinceramente mi viene da dire che il lato positivo sarà che non abbiamo mai mai fatto così male da quando sono arrivato io quindi questo mi fa bene sperare perché peggio di così non si può fare quindi questo è il lato positivo per il resto dobbiamo analizzare bene quello che è successo oggi soprattutto a livello di atteggiamento non mi è piaciuto noi possiamo accettare la sconfitta ma non in questo modo qua dobbiamo dobbiamo parlarne dobbiamo esaminare bene quello che è successo perché così così non va bene oggi Urbino si è portato una vittoria non voglio dire meritata ma sicuramente non ha rubato niente e siccome la responsabilità nostra è tanta perché noi siamo chiamati a fare a fare un campionato importante quindi quando tu ti prendi delle responsabilità di venire a giocare in una società così ambiziosa che punta a fare un campionato di un certo livello certe prestazioni non ce le possiamo permettere iniziando da me quindi dobbiamo dobbiamo rivedere tante cose martedì eccoci di nuovo non da cari amici e cari amiche delle Marche nel pallone non vi avevo fatto uno scherzo ma tra poco verrà davvero Andrea ma non prima di aver salutato i nostri gentili competenti e bravi ospiti che si sono prestati a stare in compagnia nostra e vostra per parlare seriamente ma anche in maniera divertente di calcio ringraziamo Federico Gagliardini super porterone del Montegiorgio super porterone quanti gol hai preso quest'anno non te l'ho chiesto ma forse troppi siamo 15 forse 15 no 15-16 ma insomma credevo peggio allora ho detto bene super porterone sono stato molto contento di rivedere di riabbracciare metaforicamente parlando Alessandro Costos direttore sportivo dirigente del calcio sempre sul prezzo sempre competentissimo piacere mio grazie grazie a Sara grazie anche a Leonardo Santoro con cui non ho avuto modo di parlare ma un ragazzo un difensore del Montegiorgio giovane brillante allegro e che avrà un futuro molto importante nel calcio e non solo adesso pochino di pubblicità saranno due minuti tre al massimo poi ritorna Andrea con le ultime news della giornata adesso pubblicità però ed eccoci di nuovo in studio per la terza parte della nostra trasmissione ovviamente come più volte ricordato i campionati direttantistici dalla promozione in giù riprenderanno nel prossimo fine settimana del 5 e 6 febbraio come d'altronde anche la Serie B in modo particolare per Lascoli che ha ufficializzato ieri la cessione di Abdelhamid Sabiri alla Sampdoria che riprenderà in casa al Del Duca con la sfida di sabato alle 18.30 contro il Perugia per questo motivo ovviamente domani non ci sarà Picchio Club la trasmissione consueta dedicata al club bianconero ma il calcio sarà molto presente sui nostri canali soprattutto sul canale 111 domani a partire dalle 20.30 le telecronache di Valdichienti Ponte Urbino e a seguire di Montefano Fabriano Cerreto mentre le marche nel pallone sarà replicata a mezzogiorno e mezzanotte oltre che sul canale 675 alle 20.30 vi lascio l'ultimo servizio quello relativo a notaresco Fiuggi è stato un po' il risultato più sorprendente della giornata la vittoria della formazione Ciociara per 2-0 in Abruzzo e quindi Fiuggi che riaggancia al secondo posto in classifica di questo campionato il Trastevere a 5 punti dalla capolista Recanatese per quanto mi riguarda è davvero tutto l'appuntamento con le marche nel pallone come sempre domenica prossima in diretta sui nostri canali a partire dalle ore 21 buonanotte a tutti arrivederci Nel big match da alta quota del girone F di serie D blitz esterno del Fiuggi che spugna notaresco con il risultato finale di 0-2 decisiva la doppietta Lampo di Soe che nella metà della ripresa ha deciso la partita a favore degli uomini di Romondini occasione sciupata invece per gli abruzzesi che mancano l'aggancio al terzo posto ed interrompono la striscia positiva di due vittorie consecutive con le immagini di Andino di Giandomenico passiamo agli relazzi della partita il primo tentativo in porta è di Valente al sesto si coordina in bello stile il numero 10 rosso-blu ma spedisce abbondantemente al lato più pericoloso Petruzzi che raccoglie un invito da fermo di esposito e di testa manda alto il Fiuggi si difende con ordine ma non riesce a mettere il muso avanti ed è calci piazzati che la formazione laziale prende coraggio la sponda aerea di Soe è providenzialmente risputata in corner da gallo il primo tempo scorre via senza grossi sussulti ma al 38esimo sfiora il gol Montesi che sfrutta il rimpallo al centro aria e calcia a botta sicura miracoloso Maio sulla linea di porta a salvare il risultato i terramani non ci stanno e nell'ultimo minuto utile della prima frazione si mettono in luce con Valenti che dalla lunga distanza testa i riflessi di Meceri vigile nell'occasione il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo con un tentativo del solito Valenti che è ben servito da Maio e impreciso all'atto del dunque ancora più spettacolare è lo slalom nello stretto del fantasista di casa il piattone diretto all'incrocio dei pali però termina alto nel momento di massima pressione tuttavia i ragazzi di Romondini fanno lo scherzetto al 62esimo è glaciale Soe che raccoglie un pallone vagante dal limite dell'aria ed infila Shiba sul primo palo per il vantaggio ospite sulle ali dell'entusiasmo Soe si ripete una manciata di minuti più tardi quando sbuca all'improvviso sul secondo palo sorprendendo nuovamente la retroguardia rosso-blu per il raddoppio laziale doppia doccia gelata per il notaresco che all'improvviso si ritrova sullo 0-2 prova a squadre suoi scimia che sfiora il palo e poi Maio che di testa impegna Meceri Epifani ridisegna i suoi attrazioni anteriore e col 4-2-4 mette subito in mostra Dorato il quale appena entrato si fa notare per una pericolosa conclusione di testa le occasioni rosso-blu si moltiplicano ma il risultato resta invariato l'assolo di Pampano si spegna in corner complice una deviazione di un difensore avversario il numero 11 col mancino ci riprova dal limite dell'aria controlla con lo sguardo Meceri e il pallone va sul fondo non sortiscono effetti gli ultimi affondi locali e nei minuti di recupero in contropiede il fiuggis fiora il tris sbattendo addosso a Shiba non succede più nulla ed al termine di una sfida equilibrata e maschia il direttore di gara pone fine alla contesa pomeriggio amaro per gli uomini di Epifani costretti al brusco stop scappano in vie laziali ora più 4 dal notaresco sì è una buona una buona partenza una buona ripresa e naturalmente sappiamo di affrontare due trasferte difficili importanti soprattutto quella di oggi contro penso una delle squadre più forti di di questo girone però devo dire che ogni ogni partita i miei ragazzi mi stupiscono per per il sacrificio per la voglia per la continuità per il cuore e per lo spirito di appartenenza che mettono in ogni partita tutti quanti dal primo all'ultimo e quindi devo devo sempre e solo diciamo ringraziare loro e esaltare le loro qualità tecniche ma soprattutto soprattutto umane ma sinceramente sinceramente non non ci stiamo non ci stiamo pensando proprio perché se parliamo di equilibrio e parliamo di compattezza naturalmente bisogna prendere prima gli uomini giusti e poi i calciatori quindi questa è la realtà poi tutto diciamo può succedere noi siamo contenti e oggi in modo speciale volevamo da parte nostra dedicare questa vittoria a Marco Colini che che gli è venuto a mancare il papà e quindi a livello a livello umano e morale naturalmente i ragazzi anche per questo hanno messo hanno messo qualcosa in più sì sì c'è molta mare in bocca oggi perché volevamo fare una grande gara volevamo vincere e purtroppo non è andata così anche se la partita il pallino della partita il gioco l'abbiamo avuto sempre in mano noi abbiamo cercato sempre di fare le cose abbiamo cercato di rompere le due linee che hanno fatto loro abbiamo preso due gol stupidi uno peggio di un altro siamo stati nel primo troppo ingenui nel secondo abbiamo perso l'uomo in aria e prendere gol così vicino ci ha un po' distrutto la partita però rimane il fatto che venivamo da due grandi partite e oggi invece abbiamo fatto male meno male in altri risultati ho visto che ci hanno dato una mano oggi però se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo fare altri tipi di prestazioni per noi niente perché abbiamo già fatto andiamo cercando un fuoricuoto a sinistra ma per il resto non facciamo niente sì questo è come l'anno scorso è stato il mercato sempre aperto questo dà modo alle squadre di rinforzarsi e quindi avvalora quello che ho detto prima che è un campionato molto difficile bisogna stare attenti perché poi tutte le partite saranno difficili a quella fine di rinforzarsi Giuliano di rinforzarsi proprio sullo fine della calcia americana è firmato in un annale con uno sfidio di rinforzarsi in collaborazione con Autonoleggio Alidama qualità e assistenza nell'autonoleggio I Due Re ristorante e pizzeria lungomare Piermanni Civitanova Marche